... Gentili telespettatori, più cordiale e buon pomeriggio dallo stadio Segui Maraes, Dirseo di Eboli, il derbissimo tra Ebolitana e Battipagliese. Subito la lettura delle formazioni Robertiello, Fariello, Sagarese, Siano, Criscuolo, Pastone, Ducurei, Rago, Campione, Guerrera, Dibbiase, in panchina Prima Devi, Gianiello, Ragone, Viscino, Consiglio di Rocco, Munard, allenatore Francesco, Turisco, Perlebolitana, Granata, Landolfi, Panico, Visciano, Pascuccio, Scognamiglio, Vatiero, Maisto, Margiotta, Marzullo, Liccardi a disposizione, Spiguzze, Esposito della Guardia, Salcino, Toro, Napoli e Lamanna. allenatore Ramon Taglianetti per la Battipaglia, Francesco Turisso, l'arbitro dell'incontro è il signor Giulio Milan Silvera di Valdarno con gli assistenti Ferdinando Pizzoni di Fratta Maggiore e Flavio Iannacone di Caserta. Io sono in compagnia del sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, siamo in diretta, sindaco a Sud TV, un saluto per questo grande derby della Piana del Sere. Salute a tutti, lo sport è lo sport, l'importante è divertirsi senza fazioni, senza prese di posizione, sono dei giovani, li ho visti, sono sorridenti, che vogliono divertirsi, vogliono giocare, che venga il migliore e qualsiasi risultato e viva lo sport. ringraziamo il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, il sindaco di Ebole Massimo Cariello con la sciarpa perché lui è un vecchio tifoso dell'Ebolitana. Un vecchio ultras, siamo qui emozionati e a tema stesso anche tesi, io sono molto teso su questa partita perché è una partita doppiamente storica per noi, perché al derby ci teniamo molto, ma poi ci teniamo anche a continuare su questo grande percorso della vittoria con il presidente Fausto Vecchio e con tutta la società. ringraziamo il sindaco Cariello, il presidente Onorario Fausto Vecchio, presidente anche del Consiglio Comunale, un doppio incarico importante per rappresentare la città di Ebole. Oggi è una giornata importantissima, c'è un derby che è molto sentito da entrambe le città, da entrambe le tifoserie, è una partita storica quella che si discuta tra Ebole e Battipaglia, c'è una sola differenza che oggi non c'è un problema di lotta per il campionato, perché noi ormai abbiamo una posizione in classifica che credo che non ci siano più dubbi su chi vincere il campionato, però sarà una partita bella e spero sia una grande giornata di sport. Noi ringraziamo il presidente Fausto Vecchio, ricordiamo la collaborazione per questa diretta con Sud TV, canale 6 sedete digitale terrestre e scuola nuova del presidente Giuseppe Bisogno, davvero pochissimo all'inizio di questo match. Io sono in compagnia e faremo poi la diretta con la dettosame della Battipagliese che saluto Andrea Laganà. Ciao Antonio, buon divertimento a tutti, al mio fianco come sempre Fabiano Sole, ciao Fabiano. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Fabiano, emozioni, sensazioni di questo pre-cara qui al DSEU? Tutti e due gli ambienti caricati al punto giusto, siamo stati negli spogliatoi, abbiamo visto grande concentrazione in ambo le parti, la Battipagliese arriva al gran completo, l'Ebolitana ha qualche defezione, ma l'andremo a commentare dopo in sede di presentazione delle due formazioni. Infatti tantissime novità anche nell'undici iniziale messo su da Ciccio Tutisco, tante novità da quanto ci diceva anche Antonio per quanto riguarda l'Ebolitana, subito la novità principale è che in panchina non c'è Salvatore Nastri, ma c'è Ramon Taglianesti, il direttore sportivo, per un problema di salute proprio dello stesso Nastri, che siamo sicuri che sarà lì davanti al televisore a godersi anche lui questo spettacolo. Come salutiamo anche le tante persone presenti lì in piazza Mendola a fare il tifo per la Battipagliese, l'abbraccio comune, e anche rivolto a quei ragazzi che sono lì a cantare. Antonio, andiamo nel merito di questa partita, le novità come diceva anche Fabiano dal punto di vista tattico-tecnico dell'Ebolitana, due defezioni importanti. Allora, l'Ebolitana sì, ha due essenze che sono quelle di Marco Bruno, ex salernitano, un attaccante, un esterno anche centrocampista, utilizzato varie volte da Nastri, e ovviamente poi manca Pecora, Luca Pecora, che ha fatto un gran bene in questo inizio di campionato, da quando insomma l'Ebolitana l'ha acquistato nel mercato cosiddetto di riparazione, Pecora è una pedina importante, a suo posto c'è Visciano, anche lui, non al top, con degli acciacchi, però stretto i denti, Visciano, quindi è regolarmente, tra poco entrerà regolarmente in campo. Davvero c'è un pubblico delle grandi occasioni qui ad Eboli con i tifosi, da una parte, diciamo, è la gente comune poi che si è ovviamente sistemata nella tribuna e hanno un bel colpo d'occhio con anche i dirigenti poi per ordine pubblico della Battipagliese che invece sono di fronte a noi, alla postazione quindi della diretta che stiamo per mettere in onda, grazie appunto ancora, ricordiamo, al canale digitale Sud TV 6-3 con la regia di Giancarlo Fedone. Le formazioni ancora non sono entrate in campo, noi l'Ebolitana giocano con un 4-3, invece Andrea la Battipagliese. La Battipagliese è un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto nelle ultime domeniche, messa su da Ciccio Tudisco, Fabiano un 4-4-2, spiegaci come. Sì, con Fariello sull'esterno destro, Pastore al fianco di Criscuolo e a sinistra ci sarà Sagarese a centrocampo, Ducurè e Rago sugli esterni, Siano e Guerrera al centro con Campione affiancato da De Piaze, tutti davanti a Robertiello. Scelte un po' diverse rispetto a quelle che ci si attendeva da parte di Mister Tudisco che ha lasciato fuori in tribuna sia Marmoro sia Vitiello, ha portato in panchina di Ruocco e Viscido oltre a Munard, non al meglio. Sì, Munard infatti è in panchina con la numero 18 sulle spalle, sarà utilizzabile sicuramente. A partita in corso vedremo se e come verrà messo su da Ciccio Tudisco. Ha piovuto fino a pochissimi minuti fa, quindi il terreno di gioco probabilmente sarà anche un po' pesante. Da qui mi giro proprio verso Antonio, dicendo Antonio dal punto di vista climatico la pioggia che è caduta potrebbe rendere, rende sicuramente pesante il terreno di gioco. Che gara ti aspetti? Sì, purtroppo il teleno del Disseo è stato anche sistemato nelle giornate precedenti con un manto sabbioso proprio per permettere all'erba poi di crescere spontaneamente. Questa pioggia di certo non ha creato problemi, però se nel corso della partita il temporale che è previsto dall'allerta meteo si dovesse abbattere ancora su Eboli insomma qualche difficoltà per i calciatori in campo ci potrebbe essere anche se al momento il drenaggio è mantenuto quasi perfettamente. Le due squadre ancora non sono entrate in campo, a momenti entreranno in campo stanno ripetendo ancora le formazioni qui nel spicheraggio dello stadio noi le ripetiamo ancora una volta con la Battipagliese, con Robertiello Fariello Sagarese Siano Criscuolo Pastore, è un ebolitano d'occa che gioca nella Battipagliese quindi doppia emozione per lui Ducure, Rago, Campione, Guerrera e Di Biase in panchina prima dei Vigianello, Ragone, Viscido, Consiglio, Di Rocco e Munard con Francesco Tudisco che è il mister per le ebolitane invece dicevamo Granata, Landolfi, Panico, Visciano che istituisce Luca Pecora Pascuccio, Scognamiglio, Vatiero, Maisto, Margiotta, Marzullo e Liccardi Spicuzza in panchina con Esposito della Guardia, Salcino, Toro, Napoli e Lamanna con il mister che è anche il direttore sportivo Ramon Taglianetti per l'assenza come dicevamo di mister Nassri influenzato da un paio di giorni e lo salutiamo sicuramente ci sarà seguendo quindi un abbraccio a mister Nassri e un gran abbraccio anche a Walter Mendier il vicepresidente dell'ebolitana con Roberto Palladino li salutiamo anche a loro che ci seguono in diretta su Sud TV ringraziamo anche la collaborazione Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno e ovviamente la regia di Giancarlo Fedone ancora qualche minuto c'è grande attesa la tribuna si è riempita il pubblico di eboli ha risposto nonostante la pioggia e dunque c'è grande attesa per questo avvio di match io saluto e ringrazio anche Silvana Scocozza del comune di eboli che ci ha mandato un saluto grazie Silvana, ti salutiamo tutti e tre Andrea Laganà, stanno per entrare le formazioni in campo la Battipagliese, adesso vedremo se batterà per primo o no è una grande partita si, si prevede sicuramente una grande partita tra due grandi squadre vedete che sta facendo il suo ingresso in campo anche il presidente la Battipagliese, Mario Palmentieri lo vedete voi lì amici a casa con il cappellino bianco Battipagliese, ha parlato Antonio prima di ex ha fatto riferimento a Felice Pastore ex ebolitana ebolitano doc proprio lo stesso Felice, ma ce ne sono tanti anche su Sponda e Burina Fabiano, Landolfi, Pascuccio chi più, c'è anche Spicuzza no, si e basta insomma questi tre anche per loro grande emozione si, sono questi gli ex dell'incontro abbiamo avuto modo di scambiare qualche chiacchiera con loro prima del inizio dell'incontro qualcuno è scappato anche qualche domanda ovviamente, volevo descrivere anche un po' tutto quello che è il contorno rispetto al terreno di gioco perché la Battipagliese è arrivata qui allo stadio verso le due meno un quarto accompagnata dall'assassore allo sport Michele Gioia sono arrivati poi dopo i consiglieri comunali Pietro Cerullo e una decina di minuti fa la sindaca Cecilia Francese insieme al consigliere comunale Pino Bovi si erano posizionati nella settore ospiti quindi la postazione di fronte rispetto alla tribuna stampa poi su invito del sindaco di Eboli Cariello si erano portati qui nella tribuna centrale sono passati anche in sala stampa come abbiamo visto per le interviste ora stanno riprendendo posizione credo nel settore ospiti su indicazione probabilmente dei carabinieri si c'è anche Michele Gioia l'assessore allo sport Michele Gioia c'è anche Pino Bovi Pietro Cerullo quindi anche uno spicchio di consiglio comunale Tonino Sagarese ex consigliere comunale qui sotto la nostra postazione insomma il contorno è quello giusto le squadre stanno per entrare in campo tra poco il derby della Piazza del Sele sarà spettacolo buon divertimento a tutti e noi ringraziamo e salutiamo anche i consiglieri comunali di Eboli come Fido Santo Venerando il direttore generale dell'Ebolitana che vedo Damiano Bruno insieme anche al capogruppo dell'Udc Giuseppe Labrocca c'è un grande colpo d'occhio davvero qui al Dirseo di Eboli le due squadre sono a centro campo vedremo chi batterà per primo questo calcio d'inizio della prima frazione di gioco noi vi ricordiamo anche che siamo in diretta su Sud TV canale S3 digitale terrestre ma anche sulla diretta Facebook delle Bolitana 1929 con Scuola Nuova Main Sponsor con gli aggiornamenti di Daniel Bisogno in tempo reale le due formazioni sono a centro campo ricordiamo l'arbitro Giulio Milan Silvera di Valdarno poi il primo assistente Ferdinando Pizzoni di Fratta Maggiore e Flavo Iannacone di Casetto un ringraziamento particolare anche alle forze dell'ordine e ai carabinieri in particolare al comandante Luca Geminale per la loro presenza un servizio d'ordine impeccabile è arrivato anche l'assessore Ennio Ginetti insomma si vanno a ricollocare in tribuna c'è tutto pronto le due squadre sono a centro campo manca pochissimo per l'avvio del match sono già cinque minuti oltre le 15 un po' di ritardo Andrea sì un po' di ritardo insomma è prevedibile anche in un contesto in un contorno in una partita davvero così così davvero tanto attesa tra le due piazze il derby della Piana del Sele c'è grande attesa anche dal punto di vista storico questa gara si è giocata anche quando c'era il bianco e nero le statistiche del nostro buon Paolo De Vita ci ricordano una parità qui ad Eboli sei vittorie per parte quindi anche da bilancio vale anche come bilancia questa partita che stiamo per commentare bianco nero la divisa è quella della Battipaiese tenuta d'ordinanza pantaloncini e calzettoni neri dall'altra parte anche l'Ebolitana con la solita divisa bianco blu pantaloncini di colore blu calzettoni di colore bianco foto di rito tra poco si comincia e davvero sarà un grandissimo spettacolo ce lo auguriamo questo 4-4-2 Fabiano campione di Biase ti convince? Considerando il campo pesante sì probabilmente anche questo ha inciso nella scelta di Mr. Tutisco di mandare in campo un calciatore fisico come De Biase rinunciando alla velocità e alla tecnica di Marmoro e di Ruocco anche Ducure potrebbe far davvero tanto male Antonio sta per cominciare la partita sì è tutto pronto Silvera fischietto in bocca per l'arbitro inizia il derbissimo della piana del sede Bolitana battuto Scognamiglio subito in avanti a cercare il movimento di Liccardi fermato poi Margiotta non ci arriva Marzullo batti e ribatti la palla è sempre lì con Visciano che prova a mettere ordine un ebolitana che imbastisce la prima azione di gioco con il solito Landolfi che prova il numero c'è forse un fallo si continua a giocare la battipadese recupera un buon pallone a centro campo prova a distendersi la squadra di Turisco la palla è sempre lì nella metà campo però dell'ebolitana poi Marzullo recupera il pallone su Fariello in qualche modo lo butta in avanti bravo però Criscola recuperare palla l'ambulazione della battipagliese per Ducure il colpo di testa di campione non ci arriva non è finita ancora battipagliese con Rago possesso palla il costo al centro attenzione poi l'ebolitana in qualche modo riesce con Panico a sventare la minaccia Visciano perfezione di simpeggio Mangiorta in qualche modo forse con la mano si continua a giocare l'arbitro ha visto il fallo Siano c'era anche Pastore proprio felice che aveva alzato la mano per segnalare al direttore di gioco questo questo calcio di punizione questo fallo di mano allora Andrea una partita iniziata con una fase di studio si sono passati solo poco più di 60 secondi abbiamo notato però subito alcune pozzanghere sulla zona destra d'attacco della battipagliese ora rischia un po' Sagarese finisce col perdere il pallone glielo strappa via Batiero poi lo trattiene Sagarese calcio di punizione in favore delle ebolitane siamo lì tra le due panchine Sale e Landolfi lascia però la battuta a Maisto Maisto altro ex di questo match da lui però si passa dai piedi di Pascuccio proverà la sventagliata lunga dove porta i saltatori avanti ebolitana importantissime anche le palle inattive in questo match Pascuccio quasi al limite dell'area di rigore salta Margiotta la palla è lì in aria Liccardi attenzione la girata la rovesciata di Liccardi pallone alto prima occasione da gol per ebolitana dopo due minuti di gioco bello lo stop di petto bella anche la coordinazione per la rovesciata ebolitana subito pericolosa Fabiano si sulle palle inattive la squadra di Eboli è molto forte ha infatti in più di una circostanza in questo campionato capitalizzato la propria forza fisica si è dimostrata anche in questa circostanza pericolosa su questo calcio di punizione dalla tre quarti dove Liccardi ha fatto il massimo spalla alla porta anche perché è disturbato da Criscuolo occhio a Maisto che adesso lancia lungo a cercare Marzullo c'è l'anticipo Variello però si allunga il pallone Alex Gelbison prova ad allontanarlo lungolinea ce la fa c'è campione che prova a tenere palla prova a far starire la squadra c'è la chiusura però di Scogliamiglio palla fuori rimessa laterale in favore della battipagliese allora ebolitana vicinissima al vantaggio con questa rovesciata da parte del bomber capocannoniere del campionato a sedici lo segue poi campione una rete in meno dunque un bel duello anche questo in questa partita nel derbissimo della Piana del Sele ha smesso di piovere fortunatamente quindi adesso probabilmente assisteremo ad una partita anche tecnica perché sono due squadre molto tecniche intanto l'ebolitana prova a recuperare questo pallone c'è Di Biase poi il duello a centrocampo quella meglio Viscano poi Marzullo mette giù il pallone Marzullo prova a girarsi in qualche modo mantiene palla ancora Marzullo il tecle scivolato combatte fra tre avversari poi arriva Scogliamiglio che la butta lunga in avanti dove non c'è nessun compagno poi ancora Viscano recupera il pallone attenzione Viscano in qualche modo poi c'è il fallo fischiato dall'arbitro Giulio Milan Silvera di Valdarno ricordiamolo ancora ebolitana sulla hot di destra prova a spingere con l'Andolfi poi bella azione riparte la battipagliese il break ancora il pallone a centrocampo recuperato in qualche modo dall'ebolitana con il capitano Maisto che la da subito in avanti per Margiotta prova il numero Margiotta c'è Pastore su di lui Margiotta se ne va ancora Margiotta limite dell'aria il pallone scodellato verso l'altro attaccante Biancazzurro non ci arriva però nessuno grazie alla buona difesa di Rago poi sempre il capitano della battipagliese che prova prova ad impostare l'azione palla lunga in avanti di Guerrera in una zona del campo dove Ducre viene anticipato il pallone è sempre lì rimesso al laterale per la battipagliese già effettuata Guerrera buono lo stop all'indietro ancora prova a ragionare adesso la formazione di mister Turisco mantiene palla sempre battipagliese a centrocampo con Fariello che prova ad amministrare questo pallone adesso si fa avanti Liccardi bello il dribbling anche un forse un po' rischioso di Criscuolo ma è sempre battipagliese Guerrero in avanti buono l'intercetto di Maisto che ancora recupera palla il capitano dell'Ebolitana appoggia per Panico Panico prova la progressione se ne va sull'otto di sinistra il cross a centro sbagliato non c'è nessuno allora Robertiello senza problemi per l'Ebolitana ricordiamo l'unica azione al momento degna di crona che questo ha rovesciato al limite dell'area del capocannoniere dell'eccellenza GNB Vincenzo Liccardi ancora battipagliese in possesso di palla il movimento di Siano che poi si rifugge tra i piedi di Pastore l'Ebolitano che gioca nella battipagliese a testa alta Pascuccio recupera palla altro battipagliese che gioca nell'Ebolitana Margiotta sull'otto di destra ancora il tiro cross attenzione c'è poi in qualche modo brava la difesa con Criscuolo a rimediare ma è sempre Ebolitana Maestro recupera il pallone il capitano limite dell'area appoggia per Landolfi mette giù la sfera Landolfi guarda il movimento dei compagni sempre Landolfi sull'otto di destra poi c'è forse un fallo si continua a giocare regola del vantaggio poi va a terra Landolfi la palla probabilmente è uscita calcio di punizione l'arbitro Silveira di Valdarno decreta questo calcio di punizione in calcio di punizione questo che potrebbe essere interessante sei minuti di gioco sale tutta l'Ebolitana colpitori di testa i soliti Pascuccio e Scognamiglio tutto pronto per questo calcio di punizione recentrato dall'otto di destra Silveira l'arbitro si va a mettere nel limite dell'area va a sanzionare verbalmente qualche giocatore il suo fischio tutto pronto la battuta sul secondo palo il Robertillo che esce senza problemi allora Andrea ancora una battipagliese che sta cercando adesso di proporre il proprio gioco si ci sta provando anche lavorando molto palla a terra forse non è proprio il massimo con un terreno di gioco in queste condizioni però la palla passa spesso tra i piedi del capitano Ciccio Guerrero allora Robertillo va a rilancio prova a mettere valla a terra e ci riesce Ducurè lo scarico vicino è per Guerrero è partito campione eccolo servito la sponda di testa per De Biase a limite De Biase può provare il destro passa in vantaggio la battipagliese al minuto numero 7 ha segnato Gerry Di Biase al minuto numero 7 è sbloccato il derby della Piana del Sere l'ha sbloccato Gerardo Di Biase con una conclusione su cui nulla ha potuto Granata il portiere dell'Ebolitana al primo tiro in porta è passata in vantaggio la battipagliese il timbro è stato di Gerardo Di Biase ma una bella manovra anche questa sponda di campione alle spalle è arrivato Di Biase questa conclusione imprendibile per Granata si è sbloccato il derby è passata in vantaggio la battipagliese Fabiano bello nella costruzione nell'esecuzione il gol di Di Biase con lo scarico di Ducurè il lancio di Guerrero la sponda centrale di campione per l'inserimento di Di Biase che ha anche un po' preso in controtempo Granata per il vantaggio della battipagliese attenzione alla reazione degli ospiti c'è però il cross impreciso da parte di Margiotta pallone sul fondo è rimessa in favore della battipagliese secondo gol con la maglia delle zebrette per Gerardo Di Biase è il dodicesimo in campionato perché ne aveva realizzati dieci con il Nola si da qui da insomma da inizio campionato fino a dicembre poi il suo arrivo a battipaglia il gol contro la picciola in quel di Ponte Cagnano gol che è valso tre punti si riprende con questa rimessa dal fondo è Felice Pastore pallone che cade nel cerchio centrale del campo dove stacca Nicolò Pascuccio c'è poi Sagarese che allontana senza fare complimenti ma è l'Eboletana che recupera però subito il pallone prova a sfondare sulla destra c'è il fallo di Ducure calcio di punizione in favore della squadra di casa è andato giù Vatiero il classe 99 altro calcio piazzato altri di nuovo i saltatori che si vanno a posizionare in area di rigore sia Scogliamiglio che Pascuccio che arriva adesso calcio di punizione per l'Eboletana che appunto dicevamo è sotto di un gol il bomber di Biase adesso calcio di punizione Maisto prova a scontrare questo pallone in area Guerrero addirittura in ripiegamento difensivo palla fuori rimessa laterale per l'Eboletana che adesso dovrà certamente sbilanciarsi di più e provare a trovare il gol del pareggio ricordiamo l'Eboletana sotto di una rete dopo sette minuti la rete è messa a segno da Di Biase bomber di razza un altro calciatore importante pallone tra i piedi di Landolfi prova a districarsi Landolfi il tiro cross una deviazione c'è il primo calcio d'angolo dell'incontro a favore dell'Eboletana 1-0 il computo dei corner anzi no non ha dato il corner quindi non è angolo si continua a giocare Maisto prova il numero fermato Ducuree prova la ripartenza attenzione Battipagliese che si distende c'è un fallo anzi no si continua a giocare il duello vinto da Visciano in qualche modo che recupera questo pallone importantissimo Boletana stordita dopo questo gol freddo della Battipagliese prova a reagire intanto Criscuolo bravo in anticipo non c'è fallo si continua a giocare resta a terra l'attaccante Liccardi poi si rialza intanto l'Eboletana mantiene palla pallone per Panico fermato ancora dalla Battipagliese adesso la formazione di Giudisco ha preso coraggio e confidenza con il campo dopo il gol del vantaggio ricordiamolo per la formazione ospite Boletana all'indietro tra i piedi di Granata Granata che ieri ha compiuto 20 anni gli facciamo gli auguri al portiere Biancazzurro classe 97 si continua a giocare Ducurè sempre Battipagliese Guerrera Ducurè ancora il fraseggio fra i due all'indietro il capitano apre il gioco dall'altra parte vuole la spinta di Fariello eccolo qui il diagonale in area attenzione ancora Pascuccio ci mette una pezza poi Panico recupera il pallone Boletana un po' frastornata ancora Siano bravissimo recupera palla cross al centro arriva il portiere Granata recupera il pallone prova a ripartire adesso Maisto il capitano Biancazzurro guarda il movimento dei compagni a testa alta appoggia per il mago Marzullo che mette giù il pallone Marzullo prova a districarsi mantiene palla c'è Siano che non lo molla allora preferisce impostare per Landolfi alto di destra Gianmarco Landolfi prende il pallone prova il dribbling al limite dell'aria fermato l'abitro fa proseguire e allora il capitano Guerrera Scodella il pallone lunghissimo in avanti colpo di destra di Pascuccio ad anticipare tutti rimessa laterale per la formazione della Battipagliese per una rete a zero il gol al settimo minuto di Di Biase Landolfi di testa poi prolunga il pallone per Liccardi è sempre lì però la palla c'è forse un contrasto falloso l'abitro ferma il gioco calcio di punizione per Le Bolidane proprio sotto la panchina diretta quest'oggi ricordiamolo da Ramon Taglianetti direttore sportivo che è l'allenatore per l'assenza per influenza da parte di Salvatore Nastri che salutiamo pallone lungo di Panico ancora il capitano poi il mago Marzullo fermato Guerrera con forza Caparbietara supera il pallone però Le Bolidane attenzione cross morbido in aria Criscuolo di testa non è finita poi il tiro di Liccardi insidioso ci ha provato Liccardi il dodicesimo minuto ancora Liccardi bel diagonale ma non ha impensierito però assolutamente Robertiello Andrea Le Bolidane adesso sta un po' cercando di reagire a questo gol a freddo che ha messo in serie difficoltà la capolista sì ci dobbiamo attendere per forza come sta avvenendo una reazione proprio della formazione eburina sta lavorando molto sull'outdestro sta spingendo davvero tantissimo Landolfi dall'altra parte un po' meno invece il terzino 99 Panico recupera questo pallone la battipagliese adesso lavora con questa rimessa laterale proprio lì davanti la panchina Riciccio Dudisco lo vedete in piedi che sta dando indicazione adesso lavora anche quasi come racchetta palle pallone tra le mani di Marco Sagarese chiede però di ricominciare da dietro questa azione allora si passa ripeti di pastore poi ancora Sagarese scivola un po' riesce a toccare questo pallone pallone rimesso laterale ancora in favore della battipagliese si rimane lì molto sull'out sinistro d'attacco della battipagliese Fabiano si è arrabbiato Dudisco però perché voleva una giocata in verticale piuttosto che dietro che ora esegue Sagarese per Ducure la sponda verso Di Biase troppo impreciso l'appoggio per campione c'era Rago tutto solo sulla destra sbaglia il disimpegno le boritane c'è però stata una deviazione rimessa in favore dei padroni di casa sono 14 minuti sul cronometro la battipagliese è in vantaggio per una rete a zero il gol al settimo minuto di Di Biase guadagna metri sulla corsia di destra la squadra di casa ora Visciano a chiamare in causa Panico da questi a Marzullo a puntare Fariello rimbalzo del pallone volateva trarre in inganno il terzino bianconero che però se la cava bene riesce a servire Rago il pallone è uscito rimessa in favore dell'ebolitana e allora Panico veloce con le mani a cercare proprio lo scatto di Marzullo pallone che arriva quasi al limite dell'area di rigore lo allontana di testa Criscuolo poi perfeziona il rilancio Fabio Fariello pallone che sorpassa però campione allora ancora ebolitana a manovrare Maisto va a duellare Guerrera Maisto riesce a girare verso Landolfi sulla destra salta in dribbling centrale però Di Biase l'appoggia ancora per il playmaker della squadra Maisto che allarga a destra ancora dove sale Gianmarco Landolfi prova a scodellare questo pallone in area ha altro pallone pericoloso c'è la testa di Pastore al limite raccoglie Siano si fa sfilare via il pallone per un istante da Marzullo poi è Guerrera che è imposta per Di Biase che va giù a contatto con Pascuccio c'è il calcio di punizione arbitro che retarguisce solamente verbalmente il difensore dell'Ebolitana si vuole tenere in mano le redini dell'incontro il direttore di gara senza innervosirla più di tanto perché anche nell'occasione precedenza del contropiede di Ducure lo stesso Pascuccio aveva commesso fallo l'arbitro gli ha risparmiato il giallo 1-0 qui al Dirseuma per la Battipagliese al settimo minuto Di Biase la mette dentro e adesso l'Ebolitana è chiamata a reagire decimo gol subito per la formazione imbattuta in questo campionato in tutta Italia un piccolo record che al momento viene infranto dalla Battipagliese in vantaggio qui al Dirseuma Ebolitana che prova ad imbastire un'azione d'attacco ma Guerrera con caparbietà recupera palla viene messo giù non c'è fallo allora Landolfi Guerrera ancora a terra Maisto continua a giocare ancora Maisto allarga il gioco sull'atto di sinistra per Panico Panico limite dell'aria prova il dribbling si accentra tiro cross poi interviene Criscola in qualche modo sbaglia allora Panico ne può approfittare ancora Panico tira al centro e il pallone che termina sull'atto di sinistra fuori intanto Guerrera è ancora a terra vediamo se l'arbitro se ne accorge sì in questo istante Giulio Mirian Silvera va a sincerarsi delle condizioni del capitano della Battipagliese noi salutiamo tutti i telespettatori di Sud TV siamo in diretta canale digitale 6-6-3 in tutta la regione Campania in collaborazione con Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno ricordiamo anche la diretta Facebook Ebolitana 1925 Scuola Nuova mi sponsor con Cosimo Niglia e Daniel Bisogno per gli aggiornamenti in tempo reale tutto pronto per la ripresa del match con le mani l'Ebolitana recupera il pallone Maisto lo mette giù ancora Maisto il diagonale al centro dell'area in qualche modo ancora poi Maisto recupera la palla sempre l'Ebolitana prova a spingere cross al centro colpo di testa tentato si salva la difesa della Battipagliese sempre molto attenta pallone per Di Biase che prova il numero se ne va la progressione braccato c'è forse un fallo si continua a giocare il pallone arriva tra i piedi di Giorgio Scognamiglio all'indietro per Granata l'estremo difensore Biancazzurro il cross a cercare Marzullo di testa Liccardi Visciano cerchio di centrocampo Landolfi prova a spingere da quella fascia il traversone lunghissimo in aria Criscuolo in qualche modo poi il tiro al volo sbagliato questa volta da Marzullo azione simile a quella della passata partita dove appunto Marzullo realizzò un gran gol al volo che decretò poi la vittoria dell'Ebolitana per 2 a 0 contro il Faiano intanto rimessa dal fondo è sempre Felice Pastore intanto l'arbitro va a ammonire Robertiello per perdita di tempo quindi primo ammonito dell'incontro Robertiello per perdita di tempo intanto c'è Pastore che è pronto alla rimessa dal fondo forse un'ingenuità questa Andrea di Robertiello non c'è nessun motivo di perdere tempo no perdere tempo assolutamente no sappiamo perlomeno su Sponda Battipaglia che Robertiello ha un problemino muscolare alla sua gamba destra non può effettuare i rinvii quindi per questo motivo vanno a battere a turno Criscuolo e Pastore in questo caso l'arbitro non ha voluto sentire ragioni quindi subito ha sventorato il primo cartellino giallo di questo incontro sotto il naso di Piero Robertiello siamo già dall'altra parte dove Randolfi alza un campanile prova ad arrivare a Cisacarese no è anticipato allora Guerrera arpiona questo pallone prova ad andare via servendo Ducure che riesce a mantenere il pallone in campo non a servirlo a Di Biase Pascuccio non fa complimenti pallone fuori rimessa laterale in favore della Battipagliese Fabiano Fiscale in questa circostanza il direttore di gara perché aveva sorvolato su situazioni meritevoli della sanzione disciplinare qui è andato ad ammonire l'estremo difensore Bianconero che dovrà giocare gravato di questa munizione 19 minuti sul cronometro Battipagliese in vantaggio qui ad Eboli Siano riconquista palla va in percussione Siano la conclusione la respinta di Granata arriva Ducure la manda fuori rimessa in favore dell'Ebolitana Battipagliese vicina al raddoppio con l'incursione di Siano che è resistito ad una carica al limite la conclusione respinta da Granata sulla ribattuta ha mandato a lato Ducure che sappiamo non essere un avvezzo al gol purtroppo non ha grandi feeling con la rete soltanto un gol in campionato per il Colored Bianconero Occhio a campione però ancora Battipagliese nella metà campo dell'Ebolitana va giù a contatto con un avversario tutto le corale secondo direttore di gara allora c'è questo lancio lungo che viene però controllato bene da Pastore che in tre tempi riesce a girare a destra dove è salito Fabio Fariello su di lui il pressing di Liccardi Fariello lancia ancora questo pallone nella metà campo dell'Ebolitana c'è Scogliamiglio in anticipo su Di Biase poi Panicola finta di lanciare lungo poi ragiona e appoggia il pallone vicino per Visciano Visciano tra le linee a servire Marzullo dando tanto fastidio Marzullo su quella zona del campo Marzullo per Margiotta gancia il pallone si gira vede il movimento di Liccardi la palla è per lui lo stop di Liccardi al limite dell'aria poi sbaglia e allora Sagarese allentana poi Siano ora Guerrera controlla e allarga per Peppe Rago mette palla a terra Rago lo scarico vicino è per Fariello adesso deve ragionare prova a farlo anche a mettere leggermente in ghiaccio il match alla Battipagliese allora si passa tra i piedi di Guerrera il suo lancio è smorzato da Margiotta in rimessa laterale il minuto è il ventesimo qui al Dirseo vince la Battipagliese grazie al gol dopo sette minuti di Gerardo Di Biase e Bolitana rimessa laterale per la Battipagliese il colpo di testa provato da campione ma il pallone era già uscito allora panico per Liccardi anticipato Margiotta ancora Liccardi fischio dell'arbitro signor Silvera che decreta il calcio di punizione per la Battipagliese sul pallone il solito Criscuolo che oggi fa coppia centrale con Pastore Criscuolo appoggia appunto per Felice Pastore mette giù la sfera guarda il movimento dei compagni testa alta Pastore il lancio lungo a cercare il movimento da parte di Di Biase è fermato poi in qualche modo recupera la palla ancora la Battipagliese che apre sull'atto di destra alla meglio Scognamiglio che mantiene il pallone ancora vivo Scognamiglio prova a girarsi il duello va giù il giocatore della Battipagliese poi la palla termina fuori senza problemi e allora rimessa dal fondo per Granata si chiarisce poi ancora campione con Scognamiglio qualche era Rago era Rago che si chiarisce con Scognamiglio qualche insomma chiarimento dopo questa spinta secondo il centrocampista della Battipagliese intanto Siano non ci arriva allora Liccardi recupera il pallone Marzullo fermato si continua a giocare rimessa laterale per l'Ebolitana che adesso prova ad imbastire quest'azione d'attacco per cercare di raggiungere il pareggio intanto Panico all'indietro per Scognamiglio ripreso il match pallone centrale per Pascuccio Pascuccio guarda il movimento dei compagni lungo il pallone un po' per tutti ma Ducure mette ordine all'indietro per Pastore che la butta lunga in avanti questa volta non ci arriva nessuno non ci può arrivare Di Biase palla fuori rimessa laterale per l'Ebolitana Landolfi guarda il movimento dei suoi mette giù il pallone ancora Landolfi c'è un tocco va giù con Guerrera calcio di punizione un po' di esperienza da parte di Landolfi su questo calcio di punizione conquistato allora Maisto tutto pronto per la battuta sarà probabilmente un lancio lungo lunga rincorsa del capitano dell'Ebolitana che poi preferisce invece appoggiare per Scognamiglio Panico sull'otto di sinistra ancora Panico diagonale lungo sul secondo palo la sponda di Liccardi non c'è nessuno Ducure riesce a toccare palla fuori rimessa in gioco per l'Ebolitana sull'otto di destra prova a spingere adesso la formazione di casa sotto di una rete Maisto con le mani lungo il disimpegno sempre fuori il pallone ancora l'Ebolitana che prova a farsi sentire nella metà campo della battipagliese che è molto ordinata in difesa con le mani pallone lungo ancora Ebolitana in possesso di palla Landolfi diagonale in area il colpo di testa tentato una margiotta poi il disimpegno Panico arriva prima sul pallone sbaglia ancora Panico tallonato da campione si rifugia tra i piedi di Granata l'estremo difensore Biancazzurro appoggia ancora per Panico prova il dribbling Panico sbaglia tutto ancora una volta un po' in difficoltà Panico se ne va a fari e lo si trascina il pallone fuori allora rimessa laterale per l'Ebolitana Panico per controfallo dunque ha sbagliato noi ringraziamo ancora Sud TV canale 6-6-3 con la regia di Giancarlo Fedone in diretta qui dallo stadio dallo stadio Dirseu di Eboli ancora Scognamiglio Margiotta Ducurre recupera il pallone ancora l'Ebolitana poi con Scognamiglio all'indietro per Panico la tocca lunga Liccardi di testa non ci arriva poi Fariello Criscuolo in qualche modo recupera il pallone lo butta lungo in avanti nulla da fare l'Ebolitana non riesce a sfondare Andrea quando passano i minuti siamo quasi al 25esimo che duello però Liccardi Criscuolo lì dietro davvero se le stanno dando in modo sportivamente parlando di Santa Ragione i due ancora Panico prova a dar fastidio sulla sinistra sempre Rago che prova a tamponarlo Panico riesce a giocare vicino per Visciano Visciano toccare dietro per Niccolò Pascuccio Pascuccio a destra per Landolfi ha un po' di spazio vediamo se sale l'ex Agropoli Landolfi una finta su Di Biase che ritorna su di lui palla in rimessa laterale sempre Landolfi a fretta batte subito questa rimessa con le mani va vicino a giocare verso Vatiero Vatiero il duello salta Sagarese Vatiero attenzione il cross dentro Pastore allontana nella zona di Di Biase che riesce a mantenere il pallone in campo non a controllarlo lo serve praticamente a Landolfi zona cross Landolfi ha altro pallone dentro c'è Guerrera che controlla non allontana lo fa Di Biase sui piedi di campione lo stop per Ducure gli dà lo spazio in profondità questa palla lunga che non può raggiungere assolutamente campione è facile il controllo di Granata che si trascina il pallone nella propria area di rigore Fabiano tiene botta in difesa e poi ripartenza questa è la battipagliese ora si sta giocando così la squadra di Tutisco che sta mancando però di un po' di lucidità in ripartenza anche nell'ultima circostanza Ducure ha avuto fretta di verticalizzare per campione poteva fare ancora qualche metro attenzione all'Ebolitana che conquista palla con Marzullo sale Landolfi sulla destra si propone Vatiero dinanzi a lui rinviene però in teckel Ducure a frenarle in incursione con la deviazione rimessa laterale già eseguita dallo stesso Landolfi ancora efficace in pressing Ducure può partire in contropiede la battipagliese è campione la domestica in qualche modo poi si scontra con Panico sfuma la ripartenza della battipagliese allora capovolge il fronte del gioco l'Ebolitana ancora con Landolfi posizione di ala cerca lo spazio per il cross lo esegue ben appostato Pastore pulisce l'aria rinuncia a ricorrere il pallone De Biase sfera domesticata da Vatiero ancora una sciapolata in aria per Liccardi il controllo va a chiudere Criscuolo che clamano un contatto i calciatori dell'Ebolitana probabilmente un tocco di mano ecco da qui era un po' complicato erano di spalle i due giocatori l'arbitro però subito si è sbracciato dicendo no no non c'è nulla semplice rimessa laterale per l'Ebolitana che continua a premere Antonio sempre sull'auto destro l'Andolfi sta correndo tanto e questo è un po' il live motive della partita con l'Andolfi che appunto spinge tanto sull'acceleratore sul lato destro c'è ancora lui sulla sfera un'altra azione questa con rimessa con le mani lui che ha un rilancio molto lungo vediamo se la butterà al centro no appoggia per Vatiero ancora l'Andolfi il pallone resta lì prova il dribbling ancora un colpo probabilmente l'arbitro ferma il gioco calcio di punizione Tuguri ha toccato probabilmente con il gomito questo pallone l'arbitro ha visto proprio al limite dell'aria è decretato questo calcio di punizione molto attento comunque l'arbitro Silvera tutto pronto per questa battuta dall'auto di destra sale un po' tutta la difesa bianca azzurra che ha poi in Pascuccio e Scognamiglio i due arieti tutto pronto per il calcio di punizione c'è il solito movimento in aria pallone sul primo palo la di Battagliese si chiude bene poi sempre l'Andolfi fermato da Ducurega adesso ha spazio per allungare in qualche modo però Vatiero ferma il gioco Tegel scivolato palla fuori proprio sotto la tribuna dove ci sono i dirigenti della Battagliese che stanno seguendo questa partita con la Battagliese in vantaggio per una rete a zero ricordiamo che c'è stato anche il saluto dei due sindaci che abbiamo raccontato in diretta il sindaco Massimo Carello e la sindaca Cecilia Francese dunque Massimo Fair Play e Sportività qui al Dirseo di Eboli 1 a 0 la Battagliese il gol di Di Biase al settimo minuto che sta decidendo questo match fino ad ora intanto gioco ancora fermo pronto per essere rimessa in gioco la Battagliese in avanti campione fermato il pallone è sempre lì Guerrera recupera la palla la Lebolitana però con Panico che prova ad andarsene Panico fermato ancora Panico mantiene palla non c'è fallo pallone lungo dall'altra parte a cercare il movimento di Vatiero Vatiero prova ad entrare in aria Vatiero si ferma il baby dell'Ebolitana ancora lui poi viene fermato un dribbling di troppo rimessa laterale però sempre per l'Ebolitana che prova a spingere Landolfi con le mani guarda il movimento dei compagni ancora Landolfi mantiene il pallone tra le mani appoggia per Margiotta sempre lì crossa al centro il colpo di testa tentato dalle Bolitana proprio con Margiotta palla che va fuori senza problemi Robertiello che adesso lascia l'incombenza della battuta Crisculo proprio per il problemino che aveva accennato prima Andrea Robertiello che giustamente non può battere è stato anche ammonito forse un po' di fretta da parte dell'abito che non conosceva probabilmente questo problema che è il portiere della battipagliese anche dopo 17 minuti mi è sembrato un po' presto comunque adesso perde palla Rago ritorniamo in cronaca e la strappa via dai piedi Vatiero Vatiero appoggia centralmente per Mazzullo che scarica a destra ancora sempre per Landolfi c'ha Ducure di fronte a sé Landolfi prova a cambiare lato da quest'altra parte rincorre il pallone Margiotta imprendibile per lui imprendibile per Mazzullo rimessa laterale per la battipagliese Fabiano battipagliese che ora cosa deve fare? deve difendersi così con ordine e provare a ripartire con un po' più di lucidità ancora Ducure ha avuto fretta di lanciare Campione lui che è un velocista poteva fare ancora qualche metro mette fuori Pastore di testa c'è Campione che va a svettare su Panico il pallone però resta nella disponibilità di Scogliamiglio e va a cercare Margiotta arriva la spizzata ben appostato alle sue spalle Criscuolo che controlla per Guerrera il lancio a cercare Di Biase ci arriva in qualche modo Landolfi da terra prova a disturbare Di Biase che subisce fallo calcio di punizione per la battipagliese sulla tre quarti di campo prezioso anche il lavoro di campione in fase di ripiegamento in un paio di circostanze su pallenattiva è stato lui provvidenziale di testa seguiamo però questo calcio di punizione sul punto di battuta si porta il capitano Ciccio Guerrera in aria sale Fabio Fariello rimangono dietro sia Criscuolo che Pastore i due centrali proviamo a sfruttare i centimetri di Fariello ricordiamo domenica scorsa match winner di quel 4 a 3 col Cervinara sale dietro anche Riccardi anche Margiotta a dare una mano al limite si porta Rago Ducurè molto molto largo vediamo cosa ha in mente Guerrera non sale Criscuolo Guerrera sul secondo palo a cercare di Biase che viene anticipato da Scogliamiglio la palla termina fuori si è corner allora il primo corner della gara è in favore della Battipagliese si avvia a battere con il destro Ciccio Guerrera batterà con il destro traiettoria ad uscire rispetto alla porta di Granata ora si che sale Criscuolo rimane dietro il solo pastore anche Sagarese i fischi del pubblico di casa grande movimento in aria si formano le coppie movimento tricampione su di lui Pascuccio parte Guerrera dentro Criscuolo anticipato da Scogliamiglio fallo in attacco però di Emilio Criscuolo allora calcio di punizione in favore dell'Ebolitana nella propria area di rigore il minuto è il 32esimo in questo primo tempo vince la Battipagliese 1-0 tiene il gol di Gerardo Di Biase siglato dopo 7 minuti rimessa dal fondo l'Ebolitana con Granata per Landolfi che addomestica il pallone lo appoggia per Maisto prova la progressione Maisto Margiotta Liccardi Margiotta è sempre lui mantiene il pallone poi traversano sul secondo palo a cercare Liccardi colpo di terza la sponda in aria si chiude poi Margiotta anticipato Raffariello è sempre lì Maisto il tiro di Maisto è la parata di Robertiello buona azione questa per l'Ebolitana al 32esimo ci ha provato il capitano Maisto si è disteso bene Robertiello e ha parato senza problemi quindi un'azione questa dell'Ebolitana pericolosa ma nessun problema per Robertiello che si è tuffato sul suo angolo e ha parato senza problemi questo tiro da parte del capitano Maisto ancora Ebolitana proprio con Maisto che perde palla allora Guerrera mette giù il pallone il capitano della battipagliese appoggia per Ducure molto mobile oggi Ducure secondo me buona la sua partita ancora Ebolitana però che recupera questa palla a centrocampo prova a distendersi con Maisto per Landolfi che accende il turbo cross al centro non c'è nessuno troppo largo il pallone vediamo se riesce a mantenerlo in campo Marzullo ce la fa appoggia poi per la corrente Visciano Maisto pallone sempre lì Landolfi tra i suoi piedi ancora un cross Guerrera prolunga poi Robertiello allunga le mani sale in alto e blocca il pallone l'estremo difensore della battipagliese chiamato ad un solo intervento fino a questo momento sul tiro appunto di Maisto al trentaduesimo pallone scodellato nella metà campo dell'attacco della battipagliese ancora il pallone tenuto in vita da Ducure anzi no se lo trascina fuori e quindi rimessa laterale per l'Ebolitana con Landolfi appoggia per Maisto in qualche modo recupera il pallone capitano prova a mettere ordine sempre Ebolitana in possesso del pallone con Panico che guarda Marzullo servito in questo istante Marzullo appoggia ancora per il capitano Maisto sale anche Landolfi eccolo qui sbaglia il traversone fermato da Ducure che poi scivola allora Landolfi prova a spingere palla fuori Ebolitana che prova ad attaccare con Maisto la butta al centro dell'area sbaglia tutto allora può ripartire la Battipagliese buona quest'azione ancora Battipagliese in possesso di palla chiede palla campione non viene servito dall'altra parte in vantaggio Panico che lascia sfilare il pallone rimessa la trara per l'Ebolitana Maisto stop il Maisto a cercare poi Visciano che apre il gioco per Landolfi ancora Landolfi molto mobile Landolfi quest'oggi appoggia per il capitano poi prova addirittura la conclusione è la palla che va fuori di un niente bravissimo Marzullo ha cercato il tiro della domenica bravissimo Marzullo al trentacinquesimo questo era un tiro molto insidioso Andrea con Robertiollo che è sembrato forse un po' impreparato si è sembrato anche un po' in ritardo su questo pallone ma Marzullo ce le ha questi numeri quindi occhi aperti lì dietro perché può dare tanto fastidio sta svariando tanto lavora molto sulla sinistra ma si sta accentrando spesso e volentieri Marzullo adesso c'è l'interdizione di Guerrera un po' dei limiti della battipagliese Fabiano lo diceva anche mister Tudisco domenica scorsa a fine partita che non riesce a gestire la partita adesso era un momento in cui si doveva gestire la partita questi ultimi 9 minuti più recupero si sta facendo fatica la squadra bianconera a ripartire si sta schiacciando troppo sta concedendo parecchio campo all'Ebolitana che ora prova a proporsi sulla sinistra ancora con Marzullo che però non si intende lascia la giocata Guerrera scambia con Dibbiase si propone a sinistra Sagarese Guerrera con un dribbling evita Maisto e poi sventaglia verso Rago e ben appostato Panico sulla seconda palla arriva però campione dentro per Rago provate ad entrare in area di rigore Rago la sponda per Siano potrebbe anche tirare perde l'attimo allora ricomincia dietro la battivagliese Guerrera sbaglia il cambio gioco allora riparte l'Ebolitana il lancio a cercare l'Iccardi di testa Svetta Criscuolo e allontana la minaccia pericolo perdere queste palle lì sulla tre quarti il capitano deve evitare il più possibile perché una ripartenza dell'Ebolitana sarebbe potuta essere davvero letale in un momento delicatissimo del match siamo sul finire quasi di questo primo tempo per la precisione mancano sette minuti più recupero è sempre in vantaggio la battivagliese ma l'Ebolitana sta profondendo il massimo dello sforzo per cercare di trovare il pari occhio ora a Marzullo che salta Guerrera salta Siano Marzullo l'appoggio vicino per Maggiotta da venti metri anzi a Riccardi Riccardi apre ancora per l'Andolfi zona cross l'Andolfi il pallone dentro attenzione Robertiello alza le manone raccoglie questo pallone toglie il pallone dalla testa di Margiotta pericola ancora su queste palle alte delle Bolitana lì nella rigora della battivagliese deve alzare anche un po' i gomiti Robertiello Fariello adesso è lui che sale con la palla al piede si avvicina Di Biase a giocare di sponda vicino per campione è partito Ducure non l'ha visto è partito Di Biase invece eccolo Ducure c'è il fuorigioco ha perso l'attimo campione ha chiuso l'angolo di gioco vicino per Di Biase quando invece alle sue spalle un po' più di là stava lavorando bene Ducure nello spazio non l'ha servito occasione sprecata questa per la battivagliese calcio di punizione per l'Ebolitana siamo al 38esimo Antonio vince la battivagliese 1-0 Battivagliese in vantaggio l'Ebolitana che sta cercando in questa fase finale del primo tempo appunto di trovare il gol del pareggio ci ha provato prima con un gran tiro dai 25 metri da parte di Marzullo che ha impensierito non poco Robertiello però senza il suo intervento allora ancora l'Ebolitana proprio Marzullo messo giù Ducure e si continua a giocare anzi no l'arbitro poi ferma il gioco calcio di punizione per l'Ebolitana Marzullo che appunto vuole assolutamente mettersi in evidenza anche quest'oggi dopo i due gol consecutivi noi intanto salutiamo tutti i telespettatori sia i tifosi della battivagliese che quelli dell'Ebolitana che sono al nord che ce ne sono molti e quindi un saluto a tutti i nostri telespettatori che ci possono seguire in streaming anche in tutto il mondo quindi cross al centro intanto la battivagliese riesce a recuperare il pallone c'era anche una spinta dunque calcio di punizione per la formazione di mister turisco quindi un saluto quindi un saluto dicevamo a tutti i tifosi che ci seguono dal nord Italia ma anche ovviamente da altre zone dell'Europa e del mondo in streaming su DTV canale SS3 del digitale terrestre sempre qui al dirseo con questo calcio di punizione di Criscuolo già battuto lungo in avanti a cercare Fariello anticipa tutti Panico la butta lungo in avanti il colpo di testa di Criscuolo ancora lui Fariello alla meglio prova a ripartire questo cross troppo lungo per Rago che si è mosso bene sull'auto di di destra dell'attacco della formazione della battipagliese Maisto Visciano apre il gioco per la corrente dell'Andolfi ancora Visciano ancora lui mantiene palla la butta lunghissima in avanti colpo di testa della battipagliese che sventa la minaccia si sbraccia Turisco in panchina Biancazzurri in avanti ancora con Liccardi si gira bene Liccardi prova il numero poi di tacco serve l'Andolfi diagonale sul secondo pallo stecca attenzione Criscuolo è la palla che va fuori calcio d'angolo il primo per l'Ebolitana che pareggia dunque 1-1 il compito dei corner il primo diciamo errore di Criscuolo che poteva costare caro una buona gara di Criscuolo probabilmente scivolato tutto pronto per questo calcio d'angolo già battuto Robertillo allunga la mano con il pugno allontana la minaccia la palla termina fuori va tiro con le mani per l'Ebolitana in questo forcing finale ancora Biancazzurri in possesso di palla Landolfi tiro cross deviato c'è il secondo calcio c'è il secondo calcio d'angolo consecutivo quindi 2-1 il compito dei corner per l'Ebolitana calcio dalla bandierina tutto pronto per la battuta capitano Maisto prende la rincorsa colpo di testa però ancora di campione che la butta fuori Bolitana che sta chiudendo in avanti altro calcio d'angolo terzo consecutivo per l'Ebolitana il forcing finale in questo primo tempo Maisto sul secondo palo non ci arriva nessuno la palla sempre lì alzano tutti la mano ed è ancora calcio d'angolo il quarto dunque 4-1 il compito dei corner sempre Maisto dalla bandierina sul primo palo interviene ancora la difesa bianco-nera batti e ribatti il pallone è sempre lì prova adesso l'Ebolitana ripartire da dietro con Visciano pallone lungo in avanti a campanile per Margiotta poi Criscolo ma era tutto fermo calcio di punizione e dunque manca davvero pochissimo Andrea sempre 1-0 per la battipagliese siamo al 42esimo in questo istante ultimi 3 minuti battipagliese 1 con Di Bias e Bolitana a 0 l'ultimo probabilmente l'ultima azione di gioco per trovare un pareggio e andare poi negli spogliatori con l'Ebolitana che potrebbe poi dar vita a un secondo tempo scoppiettante ma è molto difficile perché la battipagliese è ben messa in campo e sta legittimando questo vantaggio logicamente su spondo opposta di dire il contrario è il gioco delle parti in questo derby sì poco meno di 3 minuti poi sarà recupero ancora le difficoltà nel gestire i palloni della battipagliese che regala puntualmente la sfera agli avversari che ora si propone come sempre sulla destra Sagarese questa volta fa buona guardia riesce a sporcare il pallone dai piedi di Vatiero rimessa laterale per l'Ebolitana con Landolfi si fa vedere Maisto Landolfi invece tocca vicino per Visciano ancora Landolfi pronto a scodellare il pallone dentro salta due avversari poi viene messo giù è tutto regolare secondo l'arbitro allora si gioca Guerrera anzi fischia l'arbitro forse con un po' di ritardo c'è il fallo su Landolfi con qualche istante di ritardo il signor Silvera di Valdarno ha visto questa irregolarità ai danni di Landolfi e quindi c'è il calcio di punizione stazionano puntualmente nell'area di rigore della battivese sia Pascuccio che Scogliamiglio anche su questo calcio piazzato si porta su i saltatori l'Ebolitana mantiene in linea la difesa Criscuolo al limite dell'area di rigore solo Ducure in barriera su questo calcio di punizione che sta per battere Maisto Fariello su Pascuccio e Pastore su Scogliamiglio pallone a centro aria ci sono i pugni di Robertiello poi allontana Rago rincorre il pallone Ducure ma è in vantaggio Visciano e si rifugia in rimessa laterale nell'azione del calcio d'angolo quando Criscuolo è scivolato da sottolineare l'intervento di Pastore grandi riflessi ha deviato in corner poi ci sono state altri 4 tiri dalla bandirina in favore dell'Ebolitana seguiamo però questo finale di primo tempo con Sagarese che gioca verso campione anticipato però da Maisto poi Landolfi allontana sui piedi però di Pastore Felice Pastore tocca a sinistra per Sagarese provare a giocare lungo linea lo fa cercare Ducure anticipato da Landolfi ancora Ducure a lottare con l'avversario alla meglio però lo stesso Landolfi che lancia lungo a cercare Margiotta a duellare con le spalle praticamente con Criscuolo questa palla sporca adesso arriva tra i piedi di Batiero cerca il Varco per il Clos punta Sagarese Batiero si porta la palla sul destro buono il lavoro di Sagarese che ferma l'avversario tutto regolare semplice rimessa laterale per l'Ebolitana ultimi 30 secondi Antonio può essere a recupero sì stiamo per aspettare appunto quanto ci sarà di recupero da parte dell'arbitro Silvera di Valdarno si continua a giocare 45esimo Bolitana ancora in possesso di palla in questa prima frazione di gioco Landolfi si danno all'anima prova il tiro cross il cuore dell'aria c'è tutto solo Marzullo il tiro a giro di Marzullo è la grande parata la grandissima parata mano aperta di Robertiello al 45esimo dunque un vero e proprio miracolo di Robertiello grande Robertiello che con la mano aperta ha messo in angolo un riflesso prodigioso sul tiro a girare di Marzullo ancora in Bolitana calcio d'angolo già battuto ancora il miracolo il miracolo è poi la palla che va sulla linea fermata è successo di tutto Scogna Miglio voleva il gol sta succedendo di tutto sesto calcio d'angolo per l'Ebolitana dunque fioccano le occasioni ancora Robertiello miracolo sempre lui il portiere protagonista Marzullo limite dell'aria mantiene palla ancora Marzullo appoggia per Panico apre ancora per la corrente Andolfi tiro cross al centro il colpo di testa tentato da Margiotta che non ci arriva il pallone viene recuperato dal battipagliese c'è un giocatore dell'Ebolitana si è fatto male ma è terminata la prima frazione di gioco dunque allo stadio Jose Guimanaes di Ebolitana 0 battipagliese 1 decide fino adesso il momento il gol del numero 11 Di Biase al settimo minuto gran gol di Di Biase che sta decidendo questo match a risentirci per la ripresa del secondo tempo tra Ebolitana e Battipagliese gentili telespettatori di Sud TV nuovamente in diretta la vostra Antonia Eliepi cordiale buon pomeriggio di nuovo con Andrea Laganà e Fabiano Sole c'è il primo cambio nell'Ebolitana è uscito il numero 10 Marzullo ed è entrato il numero 13 Esposito dunque cambio per l'Ebolitana ancora nessuna variazione invece per la battipagliese 1 a 0 il punteggio qui al di seguo la battipagliese in vantaggio dopo 7 minuti di gioco grazie a Di Biase tutto pronto per questa ripresa batterà la battipagliese dunque al primo minuto di gioco è uscito Liccardi Marzullo dirò scusa Marzullo al primo del secondo tempo per far posto ad Esposito arbitro Silvera pronto per dar vita a questo secondo tempo tra il derby della Piana del Sere tra Ebolitana e Battipagliese inizia in questo istante la ripresa ha battuto la battipagliese pallone subito fuori un gioco fermo rimesso in gioco per la formazione di Turisco rimessa laterale rimessa laterale fattuta in questo istante in qualche modo prova ad uscire dalla propria area Ebolitana ancora con Maisto la palla lunga in avanti difficile vedere bene per questi fumogini la coreografia dei tifosi dell'Ebolitana intanto ancora in qualche modo la formazione di casa riesce a buttare il pallone lungo in avanti Ducurè Guerrera mette giù la sfera ancora Guerrera prova il dribbling scaraventa la palla in avanti per Ducurè il duello con Landolfi chi ha la meglio riesce a conquistare la rimessa laterale il giocatore dell'Ebolitana già effettuata per Maisto ma ancora per Vatiero Vatiero prova il numero si gira viene messo giù si continua a giocare Margiotta appoggia all'indietro ancora per Scognamiglio che apre il gioco dall'altra parte adesso diventa difficilissimo vedere pallone buttato lungo in avanti nella metà campo della Battipagliese i fumogeni hanno reso praticamente il campo invisibile gioco fermo arbitro Silvera vediamo che va probabilmente a confrontarsi con gli assistenti non riusciamo a capire se ha bloccato adesso il gioco per i fumogeni vediamo la decisione sta ancora confabulando il signor Silvera di Valdarno sembra che adesso la condizione di visibilità sia un po' migliore c'è intanto tutto fermo l'arbitro chiama a sé i giocatori vediamo la decisione va verso le panchine l'arbitro vediamo un po' cosa succede se riprende il gioco oppure no la ripresa iniziale era pochissimo tre minuti due praticamente se ne sono se ne sono andati siamo quasi al terzo minuto gioco ancora fermo qui al Dirseo di Eboli per questi fumogeni il pallone ancora in mano all'arbitro che confabola con il capitano Guerrera della Battipagliese spiega un po' che probabilmente non riesce a riprendere il match proprio per questi fumogeni adesso la nebbia si sta diradando vediamo la decisione dell'arbitro ancora gioco fermo qui a Deboli probabilmente si riprenderà fra qualche secondo così è con la palla portata nella metà campo della Battipagliese scodellata adesso dall'arbitro pallone tra i piedi di Guerrera il capitano della Battipagliese dunque si riprende a giocare che sportivamente lancia il pallone lungo nella metà campo dell'Ebolitana con la sfera che termina fuori già battuta Scogna Miglio mette giù il pallone ancora Ebolitana possesso di palla il traversone lunghissimo in avanti il colpo di testa di Guerrero poi Maisto Visciano Panico la butta lunga in avanti il colpo di testa di Criscuolo Esposito il primo pallone toccato di testa ancora Esposito poi sbaglia l'Ebolitana può profittarne la Battipagliese Caparbi Esposito riesce a recuperare questo pallone a centrocampo Scogna Miglio appoggia per Margiotta Liccardi prova il disimpegno ancora Liccardi limite dell'aria fa buona guardia però Sagarese pallone sventagliato nella metà campo dell'Ebolitana attenzione campione stava per recuperare questo pallone pericoloso poi sempre Ebolitana Batiero lo stop mette giù il pallone appoggia per Landolfi ancora Batiero sull'otto di destra dell'attacco bianca-azzurro il cross al centro Liccardi non ci arriva anticipato buona la difesa della Battipagliese Esposito Esposito ancora lui mantiene palla serve Liccardi Esposito prova a penetrare in aria ancora Esposito il ripallo lo favorisce non riesce a mantenere il pallone in gioco dunque rimessa dal fondo per la Battipagliese senza nessun problema Robertiello è pronto al rinvio effettuato in questo istante questa volta non perde tempo il portiere bianco-nero appoggia laterale prova a distendersi la Battipagliese palla fuori sempre Ebolitana in possesso del pallone secondo tempo ritmo basso Andrea per questa ripresa che vede la Battipagliese in vantaggio per una rete a zero ancora nessun cambio nella formazione di Ludisco sì però visto che si è andato a riscaldare Munard sembrato di vedere anche Cascone che stanno effettuando il riscaldamento in questo inizio di secondo tempo vince sempre la Battipagliese per una rete a zero il risultato non era Cascone chiedo scusa purtroppo questo il fumo dei fumogeni ci ha un po' tratto l'inganno Munard sicuro però l'ho visto nel frattempo si riprende a giocare con questa rimessa laterale in favore della Battipagliese con Fariello poi Siano prolunga un po' in ritardo Rago non desiste da recuperare questo pallone l'anticipo di Panico che si accontenta di questa rimessa laterale sono passati sei minuti in questa ripresa sempre in vantaggio la Battipagliese per una rete a zero ora Guerrera a centrocampo prova a ragionare tocca vicino Persiano preso un po' di controtempo non fa complimenti Riccardi allontana a centrocampo dove c'è la testa di Sagarese prova ad arrivarci De Biase anticipato però da Esposito distende le Bolitana ora con Liccardi va a giocare a sinistra dove c'è Batiero ora Esposito a centrocampo si sgancia Guerrera si va a destra da Landolfi si ripete il duello con Ducurei questa volta vince il rimpallo l'esterno della Battipagliese ma è bravo l'interdizione Esposito a lottare a vincere un rimpallo anche con Di Biase nello spazio il pallone per Margiotta spalla alla porta scarica a destra per Landolfi pallone imprendibile rimessa laterale per la Battipagliese facciamo anche noi i nostri saluti un abbraccio circolare a tutti i ragazzi che sono lì in piazza Mendola sono tante le foto i video che ci stanno arrivando qui ad Eboli li salutiamo li abbracciamo davvero ad uno ad uno Pasqualino Alfonso Peppe insomma tutti i ragazzi che stanno facendo il tifo a distanza purtroppo queste decisioni della prefettura hanno tenuto fuori l'Ebolitana a Battipaglia hanno tenuto fuori i tifosi della Battipagliese qui ad Eboli si devono accontentare di vedere la partita da casa lì da casa e chi invece poi i tanti che sono presenti in piazza a Mendola premere l'Ebolitana sempre Fabiano si non cambia l'andamento del match con la Battipagliese è costretta a difendersi l'Ebolitana però che ha un po' cambiato l'assetto tattico con l'uscita forzata di Marzullo infortunato l'ingresso di Esposito non aveva altri attaccanti in panchina la compagine e Burina e quindi con l'ingresso di Esposito si è passato ad un 4-4-2 con Batiro largo a destra Esposito e Maisto al centro e Visciano che si è spostato a sinistra davanti sempre Liccardi e Margiotta è entrato bene Esposito in partita la Battipagliese però ora viene in avanti con Ducuret svirgola con Rago che è costretto a rincorrere il pallone riesce a mantenerlo in gioco anzi no aveva provato una conclusione di prima intenzione Ducuret a distanza notevole ha svirgolato tradito anche dal terreno di gioco reso gibboso dalla pioggia copiosa che è scesa sul terreno prima del fischio d'inizio quindi la rimessa laterale eseguita dall'Ebolitana che ora va per via centrali con Landolfi c'è il blocco di Esposito Landolfi prova a sfondare lo ferma bene Guerrera c'è possibilità di contropiede per la Battipagliese porta palla il capitano fa fuori Esposito va giù l'arbitro dice che non c'è fallo attenzione allora alla verticalizzazione per Liccardi duello con Pastore Liccardi pallone in preda di Robertiello che lo fa suo si lamenta Guerrera è stato però ingenuo a rischiare quel dribbling da cui poi è nato il contropiede dell'Ebolitana con Liccardi ha vinto il duello fisico con Pastore ma non quello con Robertiello attento nella presa bassa una palla che cade a centrocampo con Maisto che prova ad allargare il gioco a cercare Visciano va a duellare con Sagarese rimessa laterale in favore della Battipagliese sono passati nove minuti in questa ripresa e sempre la Battipagliese avanti per 1-0 ecco adesso riusciamo anche a distinguere un po' i giocatori che stanno effettuando il riscaldamento sono consiglio di Ruocco non è Munard l'altro calciatore ma è Ragone un calciatore classe 99 che si è portato in panchina Mister Twisco sta effettuando il riscaldamento ma occhio al break soppato da Sian allora Ducurei nello spazio ha provato a far viaggiare Di Biase ma fa un buon lavoro in fase difensiva Landolfi che tocca vicino per il capitano Maisto la sterzata sul destro il pallone nello spazio per Margiotto la chiusura di testa la buona diagonale di Fariello e allora è Guerrera che prova a sventagliare verso Di Biase a duello con Pascuccio ci mette la testa l'ex Battipagliese ad appoggiare vicino per Landolfi ancora il pressing di Ducurei allora si appoggia verso Scogliamiglio si abbassa Maisto da fastidio Rago si va a sinistra ora dove Parico ha tanto spazio e può salire il terzino dell'Ebolitana pallone basso il grande anticipo però ancora di Emilio Criscuolo che va da la gara verso Ducurei prova a sfidare a duellare Landolfi è partito anche il campione la palla è sulla corsa per lui in anticipo Pascuccio protegge il pallone Pascuccio si affida ai piedi di Granata il portiere dell'Ebolitana rilancia questo pallone nella zona di Batiero un rimpallo premia Sagarese ma la palla cade tra i piedi di Esposito che la tocca vicino verso Maisto si sgancia Siano Maisto sventaglia dall'altra parte dove è salito Visciano non riesce a controllare non benissimo il pallone ma cederlo adesso alle spalle ancora per Maisto Maisto alza la testa altro cambio gioco da quest'altra parte verso Landolfi tocca il pallone con una mano è tutto regolare poi un rimpallo l'ultimo a toccare Landolfi rimessa laterale in favore della battipagliese sempre 1-0 qui al Dirceu gol di Di Biase che decide al momento questo derby della Piana del Sele ovviamente noi salutiamo tutti i tifosi anche quelli che appunto come diceva Andrea sono lì a battipaglia in piazza e soprattutto quelli a casa un saluto particolare poi anche al vicepresidente delle Bolitane attenzione adesso campione entra in area pericolo Rago se ne va poi c'è il primo calcio d'angolo il secondo calcio d'angolo per la battipagliese dunque si accende la ripresa noi dicevamo i tanti tifosi che ci sono seguendo grazie a questa diretta sia da battipaglia sia appunto da casa tifosi da battipagliese che non sono potuti venire qui per questi divieti e salutiamo anche come dicevo il vicepresidente dell'Ebolitana Walter Mandia Roberto Palladino che sono fuori zona e quindi salutiamo salutiamo tutti i tifosi che ci stanno salutando su Facebook il colpo di testa attenzione poi la girata in qualche modo insomma si salva l'Ebolitana palla che termina fuori azione questa di Di Biase ci ha approvato pallone che termina fuori senza problemi per Granata ringraziamo anche per la collaborazione scuola nuova di Giuseppe Bisogno che salutiamo battipagliese in possesso di palla la sindaca francese qui con il sindaco Massimo Cariello bello anche questo fair play sugli spalti attenzione Granata a vuoto sbaglia poteva costare caro fuori gioco però decretato dall'arbitro Silvera si continua a giocare già battuta la punizione l'Ebolitana prova a distendersi sotto di una rete l'Iccardi l'assenza adesso di Marzullo per un probabile infortunio ha costretto mister Taglianetti perché Nassri appunto è influenzato mister Nassri a mettere in capo esposito al posto di Marzullo l'Ebolitana che sotto di una rete prova a reagire Visciano tiro cross sul secondo palo va tiro la sponda non c'è nessuno allora Criscuolo la butta in avanti dall'altra parte Scogna Miglio mette giù il pallone poi Panico lungo a cercare il movimento di Liccardi che non ci arriva Robertiello allora con calma Robertiello mette il pallone giù appoggia l'atto di destra la battipagliese al piccolo trotto prova ad imbastire questa nuova azione d'attacco lungo il pallone per tutti allora Scogna Miglio Panico rimesso laterale con le mani la sfera controllata da Visciano in qualche modo poi bravo ad interporsi Fariello che la mette fuori rimesso laterale però per l'Ebolitana con Visciano con le mani appoggia per Margiotta Liccardi Liccardi ingaggia il duello lo perde Criscuolo alla meglio ancora Criscuolo la butta lunga in avanti poi Esposito per l'Ebolitana recupera questo pallone a centro campo terreno reso vicido dalla pioggia sempre lì sull'otto di sinistra mantiene Palla Panico ancora Esposito Esposito per il capitano Maisto non lucca cercare Vatiero Vatiero perde l'attimo Robertiello lascia sfilare rimessa dal fondo per la Battipagliese 14 i minuti al cronometro di questa ripresa sempre 1-0 decide gol di Dibiase Pastore il disimpegno lungo a cercare Ducuret colpo di testa c'era forse una spinta se continua a giocare ancora Ducuret fra due avversari poi Landolfi lo ferma rimessa laterale sempre per la Battipagliese Guerrera con calma poi lascia la ripresa del gioco a Sagarese con le mani Sagarese guarda il movimento dei compagni pallone recuperato da Visciano in qualche modo Visciano poi si complica un po' la vita appoggia Esposito che prova a mettere in moto Margiotta fermato però da Pastore la progressione di Felice Pastore messo giù si continua a giocare molto fiscale l'arbitro allora va tiro in avanti a cercare il bomber Liccardi Liccardi avanti Crisculo cross al centro Robertiello non ci arriva scivola poi bravo in qualche modo a recuperare la posizione si è allungato Robertiello con i suoi quasi due metri insomma nessun problema il fisico non gli manca sicuramente a Piero gli manca il piede destro infatti col sinistro va il rilancio dove duellano Pascucci e Ducuret in qualche modo la sfera arriva a Di Biase che va a cercare Campione che apre questa pallaccia per Rago ci mette una pezza Panico si alza un campanire Maisto prolunga il pallone dove c'è Fariello che fa buona guardia poi Guerrera di prima un rimpallo premia l'Ebolitana rimedia Pastore in qualche modo Panico si accontenta di questa rimessa laterale Fabiano fase delicata di questo inizio ripresa Sì l'Ebolitana sta approfondendo il massimo sforzo la battipagliese si difende con ordine ma fa fatica a ripartire anche perché Campione sembra essere un po' stanco sta correndo tanto sta sacrificando anche in fase difensiva ed ha sbagliato qualche appoggio c'è Maisto a battere questo calcio di punizione tocca vicino per Scognamiglio quindi Visciano il traversone profondo si trasforma in un tiro Robertiello fa sua la sfera compiendo un passo indietro nessun problema per l'estremo difensore bianconero che ha corretto subito la posizione leggendo bene la traiettoria sul traversone dell'esterno dell'Ebolitana ora va a servire Sagarese il lancio a cercare Di Biase intervento in spaccata di Landolfi poi ancora l'Ebolitana ancora Landolfi sulla destra si allarga Vatiero cerca la verticalizzazione verso Margiotta anticipato bene da Criscolo che poi allontana in due tempi quindi Di Biase il pallone per campione è partito Ducure deve temporeggiare qualche istante il campione ci prova palla alta rimessa in favore dell'Ebolitana ce l'ha nelle sue corde il tiro dalla distanza il vice capocannoniere del girone con 15 gol ha dovuto per forza andare con questa soluzione considerando che Ducure aveva anticipato troppo i tempi dell'inserimento ed era finito in fuorigioco si rimessa laterale per la battivagliese Fariello non ha fretta e con calma raccoglie questo pallone si fa vedere Rago la decisione di Fariello alla fine cede verso Guerrera col sinistro nello spazio per Di Biase anticipo di Pascuccia un retropassaggio rischioso per Granata che rilancia alla bene e meglio sulla testa però di Fariello poi c'è un fischio del direttore di gara il fallo di Di Biase se non ho visto male su Landolfi quindi calcio di posizione in favore dell'Ebolitana minuto numero 17 40 secondi 1-0 battivagliese Ebolitana con il capitano Vincenzo Maisto ancora in possesso di palla appoggia per la corrente Pascuccio il dribbling a cercare poi Esposito palla sempre lì allora apertura del gioco per Landolfi non ci pensa su subito il cross nel cuore dell'area c'è Liccardi si gira bene il tiro di Liccardi la deviazione di Criscuolo poi in qualche modo ancora l'Ebolitana recupera il pallone sempre Liccardi Battiero Battiero perde l'attimo allora viene rintuzzato palla di messa fuori con le mani Landolfi guarda il movimento di Esposito è sempre lì Esposito appoggia per Battiero Battiero in qualche modo riesce a recuperare questo pallone rimessa laterale per l'Ebolitana Landolfi sarà una sorta di di appoggio per Battiero così è ancora Landolfi si ferma tiro cross deviato poi la battipagliese spara lunga sempre panico per l'Ebolitana rimette questo pallone lungo in aria senza problemi si chiude bene la battipagliese ancora il pallone sempre lì tra i piedi di panico coprava la progressione se ne va a panico poi fermato l'Ebolitana riconquista questa palla con Scognamiglio e Esposito all'intietro ancora per Scognamiglio non riesce a trovare il guizzo giusto l'Ebolitana intanto c'è forse un campo nella battipagliese pallone fermato adesso da Landolfi mette giù Landolfi appoggia per Vatiero ma è bravo in Tegel ad anticipare tutti Sagarese c'è forse il primo cambio della partita per la battipagliese dopo quello appunto di Esposito si attende ancora qualche istante il pallone ancora vivo Liccardi di testa poi appoggia per Vatiero nessun problema Pastore una sorta di disimpegno mette fuori ancora non c'è il cambio si continua a giocare Esposito Visciano si gira all'indietro ancora Visciano poi Scognamiglio a piccolo trotto l'Ebolitana Esposito fermato da Guerrera allora prova adesso la battipagliese a distendersi a lasciare la propria metà campo questa palla troppo lunga per Di Biase allora sul pallone fa buona guardia Scognamiglio con calma appoggia per Granata è tutto pronto intanto per il primo cambio dovrebbe essere appunto consiglio ad entrare se non se non erro intanto si continua a giocare la prima occasione insomma ci sarà questo cambio della battipagliese vedremo poi chi uscirà intanto Maisto appoggia per Vatiero Volitana che prova a spingere Landolfi ancora il pallone di ritorno Ducure si chiude bene poi l'arbitro ferme e gioca visto probabilmente un fallo di mano probabilmente intanto c'è il primo cambio per la battipagliese esce di Biase dovrebbe uscire di Biase ed entrare consiglio numero 16 dunque per la battipagliese al minuto 21 cambio anche per l'ebolitana esce Vatiero numero 7 ed entra Salcino sempre al ventunesimo del ripreso dunque doppio cambio da una parte e dall'altra l'ebolitana ha effettuato i due la battipagliese uno calcio di punizione molto interessante questo adesso per Maisto un grande movimento al limite dell'area di rigore sempre una zona di punteggio in favore della battipagliese secondi Biase al settimo nel primo tempo calcio di punizione abbattuto Maisto troppo lungo Liccardi la grande parata di Robertiello bravissimo il portiere della battipagliese miracolo ancora un miracolo da parte di Robertiello ha allungato la mano ed è un riflesso lo ha salvato dunque Robertiello giuri ancora una volta la serranda e nega il pareggio all'ebolitana con questo colpo di testa di Liccardi allora Andrea è una battipagliese che ha rischiato grosso si tantissimo davvero anche se c'era una posizione irregolare ma attenzione ancora l'ebolitana con Margiotta scambia con Liccardi a limite Margiotta palla sul sinistro si porta sul destro conclusione Murata però adesso esce Emilio Criscuolo allunga per Ducurei l'anticipo di Pascuccio non prende la palla però Ducurei e allora ancora è ebolitana che sta premendo tantissimo adesso Landolfi a dar passito Ducurei Landolfi lo strattona ci dovrebbe essere anche il cartellino giallo per Landolfi l'arbitro però sorvola Fabiano si mette a 5 la battipagliese o forse consiglio si sposta sull'esterno sinistro c'è intanto l'ammunizione per Landolfi secondo calciatore a finire sul tacquino dei cattivi gara combattuta si lotta su ogni pallone ma molto corretta fino a questo momento dobbiamo sottolinearla era stato ammonito nel primo tempo Robertillo battipagliese che non cambia il proprio assetto Tutisco ha visto che l'ebolitana stava premendo quasi sempre sulla destra e quindi si copre con un calciatore più esperto un esterno di ruolo come consiglio con Ducure che va a dare una mano a campione eccolo consiglio ha commesso fallo però su Landolfi ha spinto alle spalle calcio di punizione in favore dell'ebolitana siamo al ventitresimo nel corso della ripresa battipagliese avanti 1 a 0 il gol di Dibbiase al settimo minuto del primo tempo e ancora la squadra di casa che manovra dalle retrovie con Pascuccio si abbassa Maisto cede a Scognamiglio e largo a sinistra Panico Scognamiglio però preferisce far ragionare Maisto che ora prova l'imbucata per l'entrato Salcino il movimento a trarre in inganno Sagarese mantiene il pallone in gioco sui di Lucia Pastore si lotta sulla bandirina dell'angolo alla fine il pallone resta in gioco consiglio a portarlo via all'avversario a guadagnare anche rimessa laterale l'ultimo a toccare è stato Landolfi sono Di Ruocco Pippo Viscido e Ragone i tre giocatori che stanno effettuando il riscaldamento non Munard lo vediamo lì passeggiare davanti la panchina della Battipaiese anzi no si sta sganciando anche lui va anche lui a effettuare il riscaldamento il frattempo Battipaiese che effetto questa rimessa laterale non ci arriva campione Landolfi si pallone per Liccardi di prima giocare per Margiorto dal limite attenzione Margiorto Guerrera col fisico ma ancora è Bolitana con Visciano altro pallone in the box Liccardi di testa Robertiello la tiene lì in due tempi altro intervento importante di Piero Robertiello che sta dando tantissima sicurezza al reparto difensivo della Battipaiese in un momento molto molto difficile in cui la Bolitana davvero sta facendo il massimo sforzo per cercare il gol del pari Pascuccio consiglio di prima cercare la corsa di Ducure l'anticipo però di Granata Ducure a dar fastidio Granata riesce ad allontanare pallone che cade a centro campo Siano La Tucca pallone verso Rago c'è il ritorno alle sue spalle di Visciano Rago non riesce a controllare la palla allora Sfera che termina in rimessa laterale Bolitana in possesso della Sfera con Scognamiglio poi Maisto in qualche modo riesce l'Ebolitana con Panico ad andare sulla fascia poi pallone toccato allora rimessa laterale ancora per gli uomini di mister Taglianetti in questo caso perché Nastri è febbricitante Bolitana sempre sotto di una rete gol di Dibiaso e sta decidendo il derbissimo del dirfeo di Eboli della Piana del Sele tra Ebolitana e Battipagliese ancora un saluto ai tanti telespettatori a chi ci segue su Facebook davvero grazie a Sud TV per questa diretta canale 6-6-3 del digitale terrestre in collaborazione anche con Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno il pallone è sempre lì Maisto poi perde l'attimo all'indietro a cercare ancora Scognamiglio Pascuccio ancora Pascuccio lungo il pallone colpo di testa di Criscuolo in anticipo ottima la gara di Criscuolo poi Fariello mantiene palla in qualche modo esposito poi Ducurè prova a mettere in moto il compagno di squadra viene fermato allora Pascuccio Landolfi ancora un ennesimo cross di Landolfi Liccardi tocca per un attimo poi Ducurè mette giù il pallone sempre Battipagliese che prova adesso con il neo entrato consiglio se ne va sull'out di sinistra fermato in qualche modo rimessa laterale per la Battipagliese che appunto quando può si distende può far male perché giustamente è in vantaggio per una rete a zero e prova adesso con il contropiede a far male all'Ebolitana che adesso si è tutta raggruppata nella propria metà campo sempre consiglio con le mani ancora lui prova ad andarsene sull'out di sinistra il pallone viene fermato c'è un calcio di punizione probabilmente l'arbitro decide lui ha detto all'Andolfo e allora rimessa laterale per l'Ebolitana già battuta per Scognamiglio ancora Pascuccio Scognamiglio e Frasveggio fa i due insomma l'Ebolitana deve sbloccarsi se vuole cercare di pareggiare questo match che la Battipagliese sta vincendo grazie alla rete dal settembre del primo tempo di Dibiase ancora la sciabolata lunga di Pascuccio a cercare Liccardi anticipato poi Visciano prova dalla distanza c'è una deviazione che favorisce Landolfi limite dell'aria Margiotta poi Fariello bravo a disimpegnare a mettere la palla fuori prova a spingere adesso l'Ebolitana sull'alto di sinistra Esposito di testa a cercare ancora il movimento dei sui Esposito poi cross al centro Liccardi tutto solo e la palla che si ritrova tra le mani di Robertiello ma il gioco era fermo quindi ha sbagliato praticamente Margiotta un gol importante Margiotta dunque ha avuto una grande occasione al 28esimo è stato probabilmente ingannato il suo tiro tra le braccia di Robertiello al 28esimo da registrare quindi questo tiro di Margiotta un tiro telefonato dal cuore dell'aria piccola e quindi sbaglia questa volta l'Ebolitana Maisto apre il gioco per Landolfi ancora lui Landolfi mette giù il pallone contrasto con D'Ogure fallo fermato il gioco Landolfi andava a rientrare è stato toccato calcio di punizione c'è Maisto sul pallone capitano dell'Ebolitana tempo passa 29 minuti sul cronometro 15 poco più alla fine di questo derby traversone sul secondo palo e colpo di testa e la palla che va fuori ancora occasionissima per l'Ebolitana per Pascuccio al 29esimo gran colpo di testa di Pascuccio e la palla che va fuori di un niente già ripreso il match Scognamiglio di testa poi Criscuolo Guerrera c'è una banderina alzata da parte dell'assistente dunque gioco fermo allora Andrea massimo sforzo dell'Ebolitana con Robertiello in grande spolvero forse davvero uno dei migliori in campo sta soffrendo tanto la battipagliese ahimè questa storia di non saper gestire il risultato sta davvero creando molti patemi d'animo ancora Criscuolo a chiudere su Margiotte largo consiglio preferisce andare prima da Sagarese però che scaramenta lungo questo pallone palla in rimessa laterale ogni volta che la battipese ha palla due tocchi e palla lunga regalata praticamente agli avversari si non riesce a far girare palla la squadra di Tutisco si sta dedicando esclusivamente alla difesa giocando in pratica tutto il secondo tempo all'interno della propria metà campo ancora Criscuolo un grande anticipo su Liccardi ma non riesce a controllare il pallone Rago la circostanza precedente parata di posizione chiamiamola così da parte di Robertiello che al centro della porta si è ritrovato il pallone tra le mani ora Pascuccio scende sulla destra cede all'Andolfi pallone centrale buona la lettura di Guerrera che allontana Ducurè può rincorrere questa sfera sul rimbalzo con Pascuccio che non se la cava benissimo Guerrera in qualche modo la tiene lui pallone dentro a cercare campione c'è il piede di Maisto in ripiegamento c'è anche Rago però che alimenta il tema offensivo per la Battipagliese Siano per Guerrera quindi consiglio a girare palla la Battipagliese nella metà campo avversaria il cambio gioco a cercare Rago la sponda è ben appostato però Scognamigli parte l'Ebolitana con Maisto colpo di mano da parte di Guerrera calcio di punizione in favore dei padroni di casa chiedono l'ammunizione a norma di regolamento ci starebbe l'arbitro però sorvola infatti andata bene questa volta Guerrera Tudisco è indemoniato in panchina preso dalla tarantola Landolfi Siano non aggancia sul secondo palo rincorre il pallone Fariello in anticipo su Margiotta lo scaraventa lungo nella zona di Rago non si fida palla fuori rimessa laterale ancora Ebolitana con Esposito centralmente per Maisto sto toccando migliaia di palloni Maisto a destra per Landolfi gli va in contro consiglio altro pallone dentro Fariello di testa al limite Rago deve controllare no scaraventa lungo questo pallone nella zona di Scogliamiglio di testa ad allargare ancora a sinistra per Panico campione sulle gambe si abbassa adesso Visciano recupera lui questo pallone prima di allargarlo a destra verso Landolfi lui consiglio Landolfi ritorna sul sinistro altro pallone dentro a lottare Margiotta al limite attenzione Margiotta la chiusura di Rago poi Criscuolo in stirata mette fuori questo pallone forse una spita tutto regolare si gioca allora Maisto va a vuoto Rago dietro per Panico altro cross dentro Criscuolo di testa ancora mette fuori Siano anticipato campione no fallo di Siano calcio di punizione per l'ebolitana posizione pericolosa Siano si arrabbia con l'arbitro dato in ritardo Siano su questo pallone calcio di punizione con Maisto sul punto di battuta rispettare la distanza il direttore di gara Robertiello ne mette tre in barriera ci sono Ducurè e Rago anzi due poi tutti dentro Maisto vediamo se scodella dentro questo pallone dove ci sono i saltatori dell'ebolitana Liccardi Pascuccio c'è Scogliamiglio sul secondo palo poi Landolfi occhi spalancati tra i giocatori della battipagliese ancora a stringere i denti quando siamo al trentatresimo minuto pronto Maisto pallone dentro Landolfi non ci arriva palla fuori altro brivido per la difesa della battipagliese su queste palle inattive sta soffrendo tanto la formazione di due disco sta davvero stringendo i denti quando mancano dodici minuti più recupero alla fine della partita tra poco ci sarà anche il secondo cambio per la battipagliese non riesco a riconoscere forse Ragone il giocatore che sta per entrare in campo Munard lo sta catechizzando quasi come secondo sta lavorando David Munard il rilancio della battipagliese ora con Pastore nella zona di Rago lo sovrasta però Maisto eccolo qui Maisto è a scivolata di Siano palla fuori rimessa laterale secondo cambio per la battipagliese si fa la prossima si è Ragone classe 99 Scogliamiglio per Pascuccio rientriamo in cronaca ancora Pascuccio a buttarla dentro Siano la spizza poi Fariello è meglio Rago non ci arriva allora ancora Bollitana con Liccardia 30 metri ad aprire il gioco per Maisto la finta di cross porta la palla sul destro retropassaggio per Panico pallone dentro altissimo Robertiello deve alzare le mani ora si lo fa e raccoglie questo pallone tranquillizza i suoi importante raccogliere questa sfera in questo momento della partita minuto 34 40 secondi vince sempre la battipagliese 1 a 0 ma la gara è sul filo dell'equilibrio il rilancio di Robertiello non è dei migliori anticipato di netto consiglio la parte di Esposito prova a prendere spazio sulla destra viene contrato da Sagarese tutto regolare ultimo a toccare proprio Sagarese rimesso laterale in favore dell'Ebolitana si continua a giocare l'Ebolitana Margiotta in aria il tiro cross il secondo palo non ci arriva non ci arriva Liccardi e il pallone termina fuori il corner il settimo corner 7 a 2 il compro dei corner non c'è ancora il cambio forse adesso si vediamo se l'arbitro se ne avvede si sbraccia anche il mister Turisco dalla banchina si arriva nel cambio in questo istante al 35esimo della ripresa vediamo chi esce dovrebbe uscire il numero 8 Rago al 35esimo ed entra in campo Ragone numero 14 dunque cambio nella battipagliese al 35esimo esce Rago ed entra Ragone tutto pronto intanto dalla bandierina Maisto capitano della delle bolitana chiama tutti a raccolta probabilmente uno schema c'è grande movimento la rincorsa il tiro sul primo palo un tiro cross sbagliato poi la palla è pericolosa al limite dell'aria buttata in avanti c'è sempre Maisto fuori gioco fuori gioco fischiato dalla terna arbitrale e dunque tira un grosso sospiro di sollievo alla battipagliese con l'ebolitana che era tutta protesa in avanti 2 a 2 il compodo dei cambi in questa ripresa 1 a 0 il punteggio invece che vede in vantaggio la formazione di mister Turisco con il gol di Dibiasi dopo 7 minuti del primo tempo e bolitana che adesso prova l'arrembaggio finale Liccardi dei piedi esposito che la lancia lunga per Liccardi limite dell'aria ancora Liccardi messo giù l'arbitro decreta il calcio di rigore è stato bravo l'attaccante dell'ebolitana a stoppare il pallone in anticipo viene anche ammonito Criscuolo ammonito Criscuolo e dunque dicevamo è stato bravo Liccardi che ha stoppato il pallone poi ha tentato il dribbling e c'è stato questo contatto l'arbitro ha decretato il calcio di rigore con Silvera sul pallone c'è Liccardi contro Robertiello la rincorsa da parte di Riccardi Silvera fa uscire tutti dalla propria area Liccardi e la parata di Robertiello Robertiello salva il risultato qui al dirseo di Eboli con i dirigenti della Battipagliese che ovviamente esultano sugli spalti davvero chance sprecata questa per la Lebolitana al trentasettesimo para il rigore Robertiello il migliore in campo adesso la Battipagliese si distende sul lato di sinistra ancora la palla termina fuori vediamo se verrà concesso l'arbitro l'angolo ancora si vanno a posizionare i giocatori della Battipagliese incredibile alla trentasettesimo Liccardi sbaglia il rigore rigore parato da Robertiello davvero secondo me il migliore in campo cambia il compito dei corner otto a tre otto a tre compito dei corner calcio di calcio d'angolo è espulso Tudisco che aveva qualcosa da ridire Tudisco quindi calcio d'angolo con Tudisco che deve abbandonare il campo probabilmente una parola di troppo da parte del tecnico della Battipagliese che ovviamente sta pregustando una vittoria importantissima dopo questo rigore sbagliato da Liccardi ricordiamolo bravissimo comunque Robertiello a buttarsi sul proprio angolo e a parare dalla bandierina intanto cross sul primo palo attenzione la grande parata di Granata poi miracolo miracolo di Granata non è finita Battipagliese vicinissimo al vantaggio il doppio vantaggio Granata questa volta straordinario al trentanovesimo Granata magico due parate che salvano il doppio vantaggio della Battipagliese è stato eccezionale Granata su il tiro da parte di di Criscuolo e poi Fariello quindi doppio miracolo di Granata si continua a giocare Margiotta nel limite dell'aria messo giù trentanovesimo cosa ha sbagliato anche la Battipagliese poteva essere il gol del definitivo K.O. Granata ha detto di no a Fariello bravissimo pallone fuori gioco fermo davvero sta succedendo di tutto qui al Dirseo con occasioni per entrambe le formazioni quella più ghiotta per le Bolitane incredibile cosa ha sbagliato Liccardi ma Robertiello si è tuffato sul proprio angolo Robertiello che in pratica sta facendo una grandissima prestazione qui al Dirseo di Eboli ancora il pallone scodellato nella metà campo della Battipagliese Pascuccio poi Esposito in qualche modo recupera il pallone disimpegno di Landolfi che si ferma sbaglia tutto può recuperare la Battipagliese poi ancora Landolfi stanchissimo non ce la fa più probabilmente Landolfi campione recupera un altro pallone Guerrera per Esposito poi sul pallone con calma adesso la Battipagliese con Consiglio Guerrera toccato da Esposito calcio di punizione allora Andrea è successo davvero di tutto in questi ultimi minuti di gioco siamo al 41esimo portieri super protagonisti davvero a dire la verità dall'una e dall'altra parte sarà ampio il recupero Guerrera verso Consiglio prova a sfidare Landolfi lo salta ma è troppo lungo il pallone rimedia Pascuccio che serve Esposito pallone che ha superato però la linea bianca quindi rimessa laterale per la Battipagliese da vedere anche il contraccolpo psicologico sull'Ebolitana dopo il rigore sbagliato è sceso un po' il gelo sul Dirseo sbaglia Consiglio la rimessa un'ingenuità questa da evitare assolutamente in questi momenti è Palmentieri il presidente in panchina in piedi doveva Consiglio essere più attento in questa circostanza l'Ebolitana sta assediando l'area di rigore della Battipagliese questa rimessa nella metà campo avversaria era un'opportunità per far rifiatare i compagni Battipagliese che però riconquista palla con Guerrera la larga il gioco a destra per Ragone la sponda verso Siano prova a distendersi la squadra di Sudisco Sombrero di Siano gioca di sponda con Campione Ducurece Ragone però in fuorigioco e ora viene segnalata la posizione irregolare del classe 99 della Battipese 42 minuti 10 secondi Zebrette avanti 1 a 0 il gol al settimo minuto del primo tempo di Biase peccato per la doppia occasione precedente dove è stato molto bravo Granata sul colpo di testa di Criscola ma soprattutto poi sulla ribattuta di Fariello una parata distinto da parte dell'estremo difensore di casa si alza bene di testa Fariello a raccogliere questo pallone poi Ragone lungolinea per Campione non filtra l'appoggio di Siano riconquista la palla Maisto gliela porta via Ragone quindi Campione se la allunga troppo si lotta a centro campo poi c'è una brutta entrata da parte di Maisto calcio di punizione in favore della Battipagliese cartellino giallo sventolato al capitano dell'Ebolitana 43 al nostro cronometro due più recupero intensifiche il riscaldamento viscido al suo fianco anche Di Ruocco lì con la casacca gioco momentaneamente fermo si è raggelato praticamente il Dirseo dopo il rigore sbagliato da Liccardi si perde qualche istante il direttore di gara che segna sul sudacquino il cartellino giallo a Siano sarà Guerrera adesso a buttare questo pallone lungo probabilmente verso Consiglio infatti così è salta Landolfi in anticipo pallone che cade adesso tra i piedi di Esposito prova Consiglio a dar fastidio Esposito con la punta serve Margiotta prova a ripartire lo insegue ancora Consiglio l'appoggio per Maisto è largo panico Maisto ritorna col destro lo tampina campione lo scarico è per Pascuccio mette lui questo pallone dentro nella zona di Liccardi che alza i gomiti ma è Criscuola ancora arriva in cielo poi Siano va via raccoglie questo pallone prova ad andare la battipagliese con le ultime forze rimaste Siano si va a buttare in un imbuto rischia un po' alla fine commette fallo si strattona praticamente con Esposito e c'è questo calcio di punizione che è già stato battuto Sfera che arriva verso Salcino a lottare con Ragone il rimpallo premia la battipagliese con Ciccio Guerrera che mette palla a terra l'appoggio per campione il controllo è pessimo gli leva il pallone Visciano ancora Ebolitana con Visciano campione con le ultime forze rimaste a dar fastidio poi Sagarese a chiudere sull'Andolfi in prima battuta non in seconda l'esterno ex Agropoli prova ad andare adesso sulla destra si accentra l'Andolfi palla sul sinistro a scodellare sul secondo palo ripiega Ragone ci mette la testa Fariello palla in rimessa laterale minuto 44 e 30 secondi 30 secondi e poi sarà solo recupero in questo derby della Piana del Siele con Ebolitana che è costantemente avanti sono 5 i minuti di recupero 5 fino al 95esimo questo derby si protrarrà occhio a Maisto zona cross pallone dentro Robertiello è ben posizionato raccoglie questo pallone con le mani e lì in piazza Mendola si alza la statua di Piero Robertiello insieme a quella di Emilio Criscuolo in questi minuti finali stanno tenendo con i denti quella maglietta bianconera e portandola alla fine di questa partita nel miglior modo possibile ha svestito la casacca viscido ci sarà spazio anche per lui in questo recupero Robertiello la butta lunga non ne ha più campione e prova a disturbare l'intervento di Scognamiglio rimessa in favore dell'Ebolitana Scognamiglio lascia a Panico Crampi per Siano si rialza però parte da dietro l'Ebolitana Scognamiglio per Pascuccio la butta lunga a cercare Margiotta la sua spizzata per Liccardi arriva il suo colpo di testa è ben appostato però Fariello è allontana dove c'è solo Ducurè che prova a dar fastidio a Scognamiglio riesce a prendere il pallone di testa Ducurè all'arbitro vede un fallo e interrompe il gioco comandando calcio di punizione in favore dell'Ebolitana dato via il primo dei 5 di recupero qui al Dirseu Esposito sulla destra altro pallone dentro Pastore è ben appostato la testa è la sua ora Guerrera la finta di corpo Margiotta gli sporchi il pallone lo raccoglie ancora Esposito non campione ora Maisto colpetto campione ancora a dar fastidio ma non raccoglie la sfera pallone dentro attenzione Fariello ci mette un piede alza questa sfera la raccoglie ora Ragone la tiene deve allontanarla però Ragone la protegge con il corpo se la trascina fuori rimessa laterale per l'Ebolitana che ancora ha la forza per premere ma c'è il cambio entrano i polmoni la grinta e la carta di identità di Pippo Viscido che dice residente a Battipaglia e quanto basta in questo finale vediamo il posto di chi entrerà Pippo credo Eddie no esce Ciccio esce il capitano esce Guerrera dentro Pippo Viscido centrocampo di cuore eccolo lì tu disco non so se gli amici a casa riescono a entravederlo in tribuna che ha perso la voce ne sono certo in questo finale di gara cronometro 46 e 50 si andrà avanti fino al cinquantesimo tutta l'Ebolitana in aria pronto al cross basso al limite lo raccoglie Campione che scaramenta lontano questo pallone dove c'è il solo Granata che gioca quasi da libero lo stop è da libero e l'esperto Granata la ributta dentro prolunga Liccardi Pascuccio lì Robertiello in uscita c'è la posizione di fuorigioco di Nicolo Pascuccio Brivido centravanti aggiunto Pascuccio in questo finale 47 e 20 sul cronometro battivagliese sempre avanti 1 a 0 tutti i componenti della panchina in piedi a dare indicazioni agli attaccanti per tenere per provare a tenere alta la squadra ora sarà Criscuolo a battere questo calcio di punizione la calcia lunga cercare la testa di campione arriva la sua spizzata pallone preda però di scognamiglio quindi Maisto sulla linea dell'out riesce a mantenere il pallone in gioco elude con un dribbling il pressing di Ragone poi il lancio di Panico a cercare Pascuccio la sua spizzata c'è il colpo di testa di Pastore attenzione ancora da terra Pastore come un leone quindi Viscido su questo pallone lo porta via però Panico chiedo scusa era Ragone Maisto quindi Scodella in area di rigore dove ci sono i guantoni di Robertiello che fa sua la sfera e si accascia al suolo per giocare un po' con il cronometro 48 minuti 10 secondi Battipagliese 1 e Bolitana 0 partita dunque che volge al termine sempre in vantaggio la Battipagliese con il gol di Di Biase decisivo fino al momento al settimo minuto della prima frazione di gioco Bolitana ultimi secondi di gioco pallone buttato in avanti con la forza della respirazione pallone che viene recuperato ancora dei biancazzurri per Scogna Miglio che fa l'attaccante ancora Scogna Miglio all'indietro per Visciano sul secondo palo per Landolfi di testa c'è il tocco poi di Pippo Viscito che allontana Ducure combatte ancora su questo pallone poi esposito in qualche modo viene fermato da Pippo Viscito che la dà ancora per Ducure attenzione buona azione questa pericolosa per la battipagliese poi c'è un fallo fuori gioco anzi decretato dall'arbitro il signor Silvera di Valdarno 49 minuti davvero pochissimo 60 secondi alla fine di questo derby della Piana del Sele qui ad Eboli sa per purtroppo maturare la prima sconfitta stagionale per l'Ebolitana manca pochissimo 40 secondi alla fine di questo match il derby Maisto la scodella in avanti il colpo di testa e la palla che va fuori incredibile pallone fuori di un soffio giocatori ancora a terra Pascuccio ancora lui al cinquantesimo ormai si attende solo il triplice fischio finale pallone sventagliato il colpo di testa e batti e ribatti ed è finita in questo istante dunque la battipagliese spugna il Dilseo prima sconfitta stagionale per la formazione dell'Ebolitana che era imbattuta aveva questo primato nazionale dunque la battipagliese di Turisco vince qui al Dilseo per una rete a zero grazie a Dibiase al settimo del primo tempo ed è davvero tutto vi ringrazio Andrea Laganà e Fabiano Sole adesso ci sono i giocatori ovviamente della battipagliese che festeggiano insieme anche ai dirigenti che sono sulla tribuna vittoria importantissima e pesantissima questa per la battipagliese per il discorso playoff l'Ebolitana avrà adesso la seconda in classifica il sorrendo che oggi non ha giocato contro l'Audax è stato inviato alla partita per pioggia dunque a risentirci per i prossimi incontri dell'Ebolitana dal vostro Antonio Elia a voi la linea studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti